quei kiwi ok siamo in live ragazzi spero che non stiano vedendo cose che non devono vedere i believe i'm in live ma porca vacca i believe i'm in live ragazzi posso spiegare tutto questa è una cosa da cui sto lavorando è la nuova minecraft hardcore nooo nooo non è vero è una menzogna allora aspetta che ragazzi mi sentite ragazzi comunque partita la live conferma ah ok un secondo ma cos'è che l'anteprima ma era questa ho sbagliato allora mi devo vuoi che ti dimonetizzino tutto vero gabby no 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 aspetta live action oh dashboard editor ok eeeh sono la gente qui gabby ben tornati con gli rgb g per gabby r per e cosa per comi per me per me salve e blon biondo come il sole ma quando ma dove dovremmo fare le magliette di blon prima o poi e della patologia e noi lo sappiamo tutti sotto quella maschera sei biondo sei un nordico no no avete presente le magliette quelle con scritto che c'è link con scritto io non sono zelda e metterò la faccia di the long game con scritto no non mi chiamo blon la maglietta della vita io non sono blon non sono blon e non blonde è vero adesso sei blonde ragazzi dovremmo essere in live perfetto vediamo se ci vedono fateci sapere se va tutto bene vi faccio anche notare un'ultima cosa prima di partire ho settato una luce mi sono comprato ne metterò anche un'altra perché vedete fa luce solo da sta parte ora lo sfondo colorato c'è tanta roba e se la punto in faccia mi acceca quindi la tengo la indietro in questa live giocheremo prima di tutto ad uno che vi avevo promesso che l'avrei fatto in live ma faremo anche una live magari se dopo ci sarà tempo su fortaned magari mi farò una partita se non rimane perché non so quanto redbox possa rimanere faremo una partita no no è che io proprio non posso giocare a fornette mi hanno fregato l'account più o meno sì no ma il medico in realtà che mi ha fatto una ricetta dove dice tu non puoi è vietato sei troppo scarso tu non puoi giocare tu non puoi giocare io invece a fortaned sto diventando veramente una bestia non vedo l'ora di mostrarvi i miglioramenti che sto facendo però innanzitutto partiamo con una live rilassante circa non sappiamo come va di questo gioco sì rilassante ma anche no ehi siete pronti a prendervi i miei più quattro dai diamoci contro Gabby subito così perché è la mia live insomma io gioco qui in casa e allora sono avvantaggiato io sto giocando sul balconcino allora ragazzi faccio una cosetta prima di partire che mi metto un po' in basso qua sotto il mio nome così non disturbo insomma gli altri ok ragazzi mi sembra che si veda tutto sto anche controllando vedo che hanno donato il giapponese l'altra volta Gabby hai il bot che ti sta già punendo cioè mi ha tirato un più due eh sì subito dai cominciamo bene ma sapete come è finita l'altra volta ok ragazzi mi raccomando voi non sbirciate nella mia live aspetta tu chissai l'on te che ridevi tanto no spero che venga fuori un più due no no ti è andata male ti è andata male e io non faccio giocare il bot ah grazie beh il bot tutti contro il bot tutti contro il bot poi un altro più due no 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 mi blocherà la partita guardalo poi abbiamo levato la regola del set ragazzi sapete se tieni un set e fai cambi le carte l'abbiamo levata se la dura all'infinito facciamo no ma pescamela una carta già che ci sei dai dai le collezioni ce le ho tutte io guardate grazie comunque a Toonsgamer84 che dona un euro al giapponese un altro un euro lo ripeto comunque i giapponesi che ti fanno i finanziamenti i giapponesi mi finanziano io sono e io ce l'ho col bot comunque sta vincendo il bot ragazzi pensa allora ti punirà e ti farà uno schermo blu allora devo pescare per forza oh ma subito fortunato che colore chiamo chiamo verde tu non lo sai bravo ragazzi e io ce l'ho col bot ma sei fetente oggi sta vincendo lui ma cosa ti ha fatto dimmi redbox spiegaci la tua storia cosa è successo dai blocchiamo red per parcondizio ma come così puoi avere più carte red tu vedi il caro ma il bot il mio nome è vedi vedi che lo dovevo bloccare ma porco cane malefico bot mi tocca far così a botte proprio vado di redbox vado di redbox vado di redbox ma non potevi scegliere un altro colore per favore red se tu non hai il rosso porco oh il bot vince lo adoro a me a me ma cosa lo adoro sto bot dai almeno la cosa positiva è che non devo anzi no dai lon tocca di nuovo a te davvero red ma vuoi farlo vincere dico uno e tocca di nuovo a te red sei fatto così gentile ma dai io ti ripasso la palla no aspetta la vince così non dirmi che c'è il verde ti prego ti prego no devo peschiare fettecchio non stavo per vincere perché qua chi ha una carta vince chi le finisce no no io l'odio sto gioco io guarda guarda red red toccato di nuovo ma sai che secondo me tocca di nuovo a te red red ma porca di quella porca ok è una faida è una faida ah c'era anche Gabby in partita non mi ero accorto ah non era il bot credevo fosse la live di IACowboy e mi ero segnato per un secondo il mio streamer preferito ma ragazzi veramente io ho giocato pochissimo a questa partita ah no aspetta ce l'ho le carte ce l'ho le carte ah per fortuna oh finalmente Gabby credevo fosse solo commentatore ma guarda ormai io ho l'imbarazzo della scelta non mi fate commentare mi buttate carta su carte vi tenete il podio mi siete presi già per favore la mia live dai delle carte al più al cowboy Gabby adesso inizio io a tirare il divieto al bot mi faccio giocare oh credo no non bloccarmi no no tranquilla allora so che è fettecchio ma blocchiamo Gabby ma no adesso lui vince c'è il rosso intanto cosa cambia no tiro qualcosa stasera guardalo guarda come funzione Alex 05 ciao rgb per caso dopo posso giocare con voi a fortnite eh magari se ci capita del tempo avanzato invitiamo anche qualche no red non ti faccio un favore blon 84 che se nomi nomini ti spammo robe tranquillo tu stus gamer sei stato nominato 2 euro grazie mille ok butto un blon per me vinceva ma basta con questo blon ma dai ma facciamo giocare un po' il bot stavolta no che no che così Gabby butta me le sue carte guarda che sei d'accordo con la con cowboy sono tutti contro io sto giocando col oh no scusami la pescata scusami red red scusami red scusami la pescata da solo la pescata da solo la pescata da solo ragazzi pesca grossa casa gabbiana pian pianino mi sto anche io disfacendo dei miei fardelli eh red se peschi un più 4 giuro no no tranquillo ok ok cominciamo a punire Gabby allora perché è troppo avanti l'avete pulito tutto prima cos'è andiamo avanti all'infinito aspetta 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 no no pesca pesca il bot perfetto l'ho pescata tardi no red oh vedi vedi chi la fa non dimmi che ha più 4 sei un aspetta Gabby sei fortunato che sei lontano da me perché ti avrei già distrutto possiamo scambiare i posti dopo dai va bene aspetta aspetta dai che sono dai dai un po' di fortuna guardatemi guarda guarda beh vedete io comunque un po' di fortuna ce l'ho hai scelto un colore che mi piace davvero è un colore che piace tanto tanto anche a me onestamente vai Gabby no oddio che catena credevatemi dai lon continuiamo sta catena no ti ci strangolo con la catena ti ci strangolo con la catena è la catena del water diciamo che alimenta l'amicizia sì certo io vi voglio bene ragazzi no ma ma io ce l'avevo avevo la carta giusta me l'ho pescato adesso oddio no oddio ma se tu hai un più 4 puoi un più 8 vero non è andato via è uscito di casa veramente avremo una cowgirl al posto di lon era un po' bimbo ma vabbè ah è vero cowboy red no tranquillo non ho niente è bello che non ho un verde neanche a pagarlo ma guarda ma sai che ci sto godendo proprio tantissimo perché perché ah cavolo ah questo perfetto credevate grazie di aver rimesso verde siete persone fantastiche l'unico a me non mi piace il verde tieni dai grazie grazie lo apprezzo un sacco e gabby anche lo apprezzo tanto veramente amo i vostri più due proprio sono belli come delle sberle ah sì vuoi un altro più due lon eh red mi sono caccato sarò sincero mi sono caccato ormai il 7 mi è spaventato da un casino di te sì dopo quella la volta del 7 per fortuna e dai è questo verde grazie red ho delle carte io grazie red ok è l'un si sta disfacendo di troppe carte grazie red box intanto qua sono pieno di carte io stiamo andando bene dai però sempre il bot in vantaggio cioè vedete la sì 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 è sempre gabby bloccato punito in qualche modo c'è una faida mi vendicherò non ha detto uno non ha detto uno l'ho contestato l'ho contestato il bot che non dice uno con tutta la sua intelligenza che sembra Einstein e invece sai solo fare uno e lui stava tirando già fuori usate l'ignoranza non è che il bot che è Einstein è noi che siamo un gnocchio onestamente ah sì io pensavo che siamo forti gabby le carte le devi ridurre e non aumentare è una delle regole di base ma questo gioco ragazzi io chiedo anche agli iscritti a caso ma è un gioco di skill perché a me sembra un po' il gioco di schif di schif di schif un po' di schif un po' di schif un po' di schif un po' aspetta un attimo l'on sì sì grazie grazie io credo nel potere delle carte so già che poi scusa sei un chiromante non lo sapevo sono un cartomante sì un cartomante scusa un chiropratico un chiropratico anche no 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 l'ha detto la gente dice che vince l'on vince il bot che è quello con più carte no è gabby quello con più carte no perché adesso io devo pescare sono io quello con più carte mi piace darti questo guinness guarda che sia giallo ok ringraziate me che ho cambiato colore ragazzi mettete il colore ketchup che mi fate felice dai ti faccio un favore no guarda credemi non è felice quel colore non è felice del colore ketchup però veramente me lo stanno dando tanto di ketchup a me piace la marmella tocca di nuovo al bot oh non ha detto oh non ha detto uno non avete contestato no dobbiamo concentrarci perché lo sta vincendo redbox io non ci credo no no si vincano si basta che non butti un più 4 a me ma se è redbox avrà una carta rossa no red no non ha la carta rossa non ha la carta rossa non ha la carta rossa fidati il ketchup non è forte in lui il ketchup uffa non mi piace il ketchup basta non siamo capaci a contestare dobbiamo concentrarci comunque oh mi sono liberato il giallo ti prego grazie così spesco di nuovo è rosso posso avere un più 4 così il bot non vince rosso rosso la gente dice che adesso vince l'intelligenza giallo mi va bene va bene anche a me a me io odio il giallo red bravo red bravo red non voglio far vincere il bot ragazzi se aveva un più 2 guarda se aveva un più 2 facevamo la catena di sant'antonio secondo me ragazzi ci strangoli no 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 secondo me non saremo più amici aspetta aspetta quale colore l'on è andato via di nuovo non ha sentito è andato via ragazzi andate a cercare l'on perchè lo diamo per disperso ragazzi andate a scrivere sotto il canale di l'on se trovate un pirla con un mazzo di 89 carte sono io no ma trovamelo no niente no vabbè avevo una carta adesso ne ho 9 è meglio bondare no red tu sei il signor del divieto guai no guarda ce l'anche gabi ce l'anche gabi vietato redbox no vietato il bot perchè non voglio che vinca lui ma lui è un povero cauto mi tocca cambiare colore prega comanda color dice oh ho anticipato la sua mossa vabbè vabbè voi mi state comunque aiutando a liberarmi delle carte che non mi servono quindi guarda cambiamo giro che è meglio io che ho ansia ma dai toccava a me ti prego solo una carta solo una carta dai delle carte al bot vai vai due ma come bene allora facciamo così rimediamolo a gabi ma basta questo gioco così pesco di nuovo così pesco di nuovo magari dai giro un'altra volta guarda 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 figlia figlia gabi figlia ma non finisce mai sto mazzo che gran mazzo mi spiace mi spiace eh prima non mi hai fatto giocare non ti ne avevi noi ho tutti i divieti mazzi si mi ha anche buttato due volte più 4 ormai divento anch'io no divieto di vincere per voi red red che cavolo ti vado a mettere non mi piace a tutti i video agli agli aiuti pesanti ma adesso li faccio partire io no ti amo più due rinno no ragazzi siete maledetti siete dai pesca pesca maledetti red dai voglio essere una persona gentile e ti ridò il turno grazie mille ma io rinuncio no 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 red 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 non possiamo far così voglio che tu abbia il turno eh ma non ne ho di carte verdi come faccio maledetto scommetto che ne peschi un altro tanto ormai ho capito l'antibona della partita poi è il bello che abbiamo detto questa partita sarebbe durata poco si infatti ha girato lui ha girato lui lon so che tu hai carenza di carte in mano quindi ti do questa porco cane red non hai un più due dai ragazzi io ce l'ho non l'immortale tua se vuoi però bene 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 il bot è fuori dal giro poi ma anche non è fuori dal giro basta dai red sei peggio di alexi no io per ora sono veramente fuori dal giro guarda me no io voglio essere dalla parte opposta di red la prossima parte io vorrei soltanto tornare al vantaggio che mi merito dato che sono lost sono il oh grazie karma io dovrei grazie karma ma come fa a sapere che non ho il verde usa i trucchi te lo dico io e beh siccome fa 1 0 1 0 velocissimo arriva a 1 e poi 0 e si ferma e si ferma gabi tocca a te comunque ragazzi si tranquilli io cambio colore allora lon io potrei e invece lo faccio red potresti anche se hai far tante cose hai poco hai poche carte devo rimediare subito attenzione oh ci fosse una carta per punire no neanche una ma poi per punire cosa tanto tocca a gabi devo pescare non mi puoi punire il giro lo dice a parte che potevo mettere i 4 dell'altra carta ragazzi sono scemo scusate ma sto cercando di fare una cosa ma perché il verde ma io chiedo ma con tutti i colori che ci sono ma perché il verde ah vabbè ragazzi non riesco perché volevo ingrandire la chat ma non posso allora tocca a me mi libero guardate una volta per tutte così torniamo alla situazione ketchup di prima ma tieni questa di situazione ketchup ma beccate tutto ketchup beccate la maionese corchetto e ketchup mi sono sborcato tutto the ketchup oh oh no no red 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 lo scleravo e sbuttavo male che culo l'unico colore che non ho perfetto oh gabi che bianco gabbiano ketchup beh gli ho dato la maionese adesso di dolchetto mi fa la salsa rosa esatto no si vendica si vendica di tutti i colori adesso vedremo sono dal tonico quindi per me come fai a giocare a sto gioco allora è la mia poppottologia quindi no l'hai attivato triggeratore è fatta abbiamo pingu sala ma perché non facciamo le magliette patologia dobbiamo farla creiamo life e ognuna di esse avrà una malattia differente e integrata vuoi l'ebola compra la malattia della poppottologia facciamo un drop che manco la supreme per me l'un vali tanto quanto questo numero ah si si perché ti sto dissando addirittura anche se ho fatto una cavolata perché di rossi non è che adesso crea un secondo account e ti ripeto di due non mi piace per ogni video ma basta quanti ecco perché sono aumentati ultimamente ho già capito il perché ma tu come giochi i redbox le carte dove le tieni dentro quella barba ma no le tengo sotto le cuffie tranquillo ah è vero che c'ho la barba aspetta ok comunque pian piano stiamo tornando bene noi siamo messi ragazzi l'hai detto ah io sto buttando carta a cado con la maschera non le vedo però ogni volta sta andando bene il problema è che mi cacciate qualche carta il colore che non hai è del tuo di colore per fortuna ok ma signor bot ma vuole giocare un altro turno no adesso l'onna adesso l'onna adesso l'onna guarda lo sapevo lo sapevo il fettente schifoso tu pugnalo di qua pugnalo di là cosa credi che poi io non scusi chi è che si è preso i p4 di red scusi ma comunque nel giro voi non potete farmi male solo se il bot mi hatera ma il bot non mi hatera lui mi vuole bene ma se io hatero il bot e lui hatera te perché ho stato io la partita quindi alleato con me vedete funziona così non mi tira mai un p4 sennò lo crascio spacco la scheda ti prego bene parla bene del bot ecco cosa ti meriti grazie così adesso io devo pescare oh grazie guarda che chiurlo ma dai pescata al momento adesso magari il bot e l'altro diventa guarda che ti odia io lo stavo dicendo che me lo buttava mamma mia ti sta bene dai lon ti voglio bene ma io dopo lo crascio dopo spacco la scheda ma non potevi volermi bene con un altro colore ragazzi ragazzi buona pasqua comunque buone palme ragazzi ma è già pasqua oggi le palme eh infatti due palme ma la smettete di rompermi i palmi della mia madre ho molte carte basta dai non è troppo triggerato gabby dobbiamo far qualcosa per triggerarlo ancora di più aspetta dammi un po' sei fortunato no guardalo tre volte il più 4 no però finché al bot ci sta eh questo è il peccato però adesso è quanto pescare un altro più 4 al bot scommettiamo un cacchio no dai non è che metto un 4 e vale come un più 4 no non funziona no non funziona così cacchio dai dai vai 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 pesca pesca mi sono cacato per un secondo era un 4 ma non quello che ti meritavi ma io c'ho voglia di ketchup dai e poi sono scemo perché ho scelto io il giallo e ho buttato il rosso mi sa perché tu butti sempre ora all'on vai un po' attenti tutte le le carte vado vado come vi chiesto continua ad andar via ma cos'è fa un po' di palestra abbiamo fatto fare jogging all'on che mi diceva che scusa era verde hai scelto verde che stupido bot di nuovo libero grazie ragazzi così devo pescare di nuovo di nuovo libero per me dice Gabby ma dai cambiamo colore bravo chi l'ha detto e grazie mille Lorenzo Latti che mi ha dato 2 euro potrò comprarmi il latte grazie ciao Gabby come stai me ne dai un sorso ed era intollerante al lattosio quella è l'ultima volta che vediamo Gabby salutiamo tutti Lorenzo che mi chiede e intanto non fa la sua mossa grazie Gabby così è pescato guarda quante carte aspetta no grazie basta no dai basta addio no no scegli il colore Gabby scegli il colore devo mettere questo perché è la maggioranza ma perché hai scelto quel colore lì guarda che mi dicono Gabby hai la voce ragazzi fatemi sapere se la mia voce è troppo bassa che casomai la alzo un po' mi sentite meglio così ragazzi ditemi se è troppo mi stai sfondando i timpani nella maniera più buona magari mi abbassate voi tutti adesso la mia si è un po' abbassata ma vabbè non importa fatemi sapere ragazzi in chat se mi sentite troppo basso mi sentite bene a me no ma cosa fai io credo che gli altri ti sentono bene a me mi sentono un po' basso no no ma a me sentono adesso mi sentono fortissimo sapete scusate io e il mio amico cowboy dobbiamo giocare un attimino per conto nostro cowboy manda meno un altro guarda e no lui riparte no che no i più 4 di red no no tranquillo tranquillo li tengo per la fine i più 4 si red ma devi sapere se mi sentite bene anche i calci li tengo per la fine io ti sento benissimo gabby sai tutto bene perfetto ma un 2 lo vuoi si prego così posso cambiare colore molto gentile ma perché ma butta un 2 anche te mi sentono un po' basso mi dicono allora provo ad alzare cavolo devo prendere ora abbassatemi voi su tss clip si si è altissimo ma dai un secondo si cominci a cracchiare porco cane un secondo abbassate ragazzi voi mi sentite bene non parlare ora mi sentite bene non ho più l'udito non parlare ti prego aiaia le orecchie scusate ragazzi parla gabby due secondi ora mi sentite bene si ti ho bossato i 12 decibel si ma io ho paura anche che clippi di là cavolo io non so si stai stai facendo un po' di raid sto distorcendo di storage si si lon dato che sono furioso ma devi sapere se ora va bene se non ho bossato gli altri no red dai ragazzo mi libero un po' vince il bot raga vince il bot sicuro no no basso alto non ho carta neanche per punire il gabby all'ultimo gabby tutto dentro le tue mani punisci il bot lo punisco così intanto ragazzi ed era l'unico no meno male ma dai cavolo non ci credo mai nella vita e si torna in pista non finirà mai non finirà mai nella vita non finirà mai nella vita non finirà mai nella vita ah proprio l'unico colore che non ho grazie come al solito è vero che il clip ha un casino però va bene altissimo levissimo gabbissimo non ci gioco più con voi dai ma ci gioccherai dai ma pescala una carta dai vai vai gabby ok butto l'uno bravo e butta la pasta anche infame faccio una cosa mi sento io quanto male grazie mi sento male mi dispiace gabby se ti senti male ancora col verde ancora col verde per davvero non ho neanche un sette non ci gioco più con voi scusa mamma mia che casino gabby non ho giocato no tocca a te tocca a te punisci il bot perché se no finisce la partita vince lui beh mi sa che potrebbe vincere eh mi ha buttato una carta a caso no era proprio quello no avevo predetto nostra Redbox no dai ma non vuole ha detto bot dai scusi prevede anche i numeri del superenalotto signor che sa magari ma magari ma ti giuro ma guarda secondo me durava meno una partita con il sette sì davvero c'era la modalità con le carte di Raimel che non ho mai provato dove sono? oh no le posizioni le ho mantenute comunque ragazzi prima di partire ragazzi devo fare un test un secondo che test un test atomico nucleare devo sentire intanto non parti tu vabbè vado vado guardate un secondo dai no era proprio quello avevo predetto nostra Redbox no dai ma non vuole ha detto bot dai scusi prevede anche i numeri del superenalotto signor che sa magari ok allora siete un po' alti voi vi abbasso abbasso un po' dai Redbox eh abbassami abbassami allora metto a meno 6 ragazzi perché ho visto sto vedendo un po' dalla live Red che tempo fa lassù a Melegnano a Melegnano si sta bene si sta bene ragazzi oh Gabby pesca ragazzi ma ho saltato il turno io no è un'impressione è un'impressione molto blocchiamo anche a Red per sicurezza per far condizio ragazzi io direi anche di ripartire perché no pescate due carte no 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 aspetta ragazzi direi di ripartire direi di ripartire direi di ripartire anch'io secondo me non è un po' di ripartire perché ho dovuto controllare due robe ora ragazzi fatemi comunque sempre sapere allora siete persone orribili ma comunque diamo un più 6 a Red sono guintato sono guintato ricreo perché ma no avevo il più 6 da dare a Red eh ragazzi io avevo il più 8 da dare al bot c'è anche la modalità con Raimann Raving Rabbis io vorrei provarlo e non ce l'ho io però no non ce l'hai? non dire le cippo che mai andrà da me è gratis che cacchio vabbè ma comunque non sappi che avrei buttato un più 8 al bot che avrei buttato un più 10 a Gabby il NAT è di tipo stretto no si e poi tutto convergeva in un buco nero e l'universo finiva credo tu lonna mi ha dato quel problema del NAT stretto non dovevi chiudere la porta non dovevi chiudere la pazzina non si chiudono le porte perché sennò poi le NAT si richiudono anch'esse eh che cavolo ma intanto vediamo è la live che ha fatto chiudere le porte non ci sono più le live di una volta assolutamente assolutamente potrei provare a ricreare se no possiamo anche farne una switch è complicita ma come gioca online vuoi dare il ruoto la classica crea e ma secondo me posso unirci non ti preoccupare ah sono l'unico che sta ancora giocando no no ok ok posso stare posso stare posso stare mi ha fatto vuoi rimanere ti hanno detto che puoi vai vieni vieni arrivo entrata e post I'm here my friend non ti vedo vieni ci sogno ci sogno non vi vedo io ti vedo io ti vedo ma è quel bug del nut mi sa io non vedo l'on ma vedo gabby ecco no di nuovo perchè vanno isolati se volete posso provare ubisoft crash asubitoft ubiskif grazie comunque alex per l'adonese i 5 euro si ho visto ma lì c'neozolandese ti dico di si ok non posso partirla prova ad aprirla tu redbox vediamo se funziona no mi dice la stessa cosa che dice a te a nut prova te l'on aspetta 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 questo gioco vuole che noi impazziamo se no andiamo su witch hit se però più vediamo ok non va perché witch's bridge alla via il 7-0 round single faremo anche fortnite dopo ragazzi una partita o due la faremo ma non è che l'hanno aggiornato il gioco mentre stavamo giocando ma che l'ha ubisoft l'ha creato anni fa e l'ha lasciato lì a morire a se stesso ma ho visto oggi che hanno detto dobbiamo risolvere il crash con beat defender che è proprio l'unico antivirus che ho io fortunatamente non è crashato ah aspetta che ci provo dammi un secondo che ci provo aiuto le notizie di due anni fa di Revin Rebis allora usa quelle le notizie di gennaio 2017 benvenuto benvenuto abbiamo creato questo gioco e non lo aggiorneremo mai oh ma ci sono carte speciali se no potrei anche uscire dal gioco e rientrare le carte speciali con le bombe ti riavvio al gioco magari con le bombe nato sei un po' stretto a me piacciono le bombe andiamo a giocare al gioco con le bombe voglio le bombe ragazzi riavvio un secondo uno se non va cambiamo gioco andiamo su wichit ma io volevo vedere le bombe lo so che non sarei dovuto quittare però volevo rifare un game decente senza 5 miliardi di carte sarebbe quittato chiunque il posto ma te potevi vincere potevi fare un sacco di cose non si butta la spugna così riavvio 1 vediamo riavvio 2 riavvio 3 siamo di nuovo partiti 1 ragazzi 1 2 3 qual'era com'è la tua intro per i video possiamo svelarla lon la tua la intro dei video no la intro là è il click io sono dentro cos'è abcd e c'è la sincronizzazione no facevi 5 4 click si c'è vabbè ma funziona si sincronizza la sincronizzazione di poveri è quella che funziona con l'obs io faccio boom salveva la gente via sordo boom giuro il canestro e qual'è la tua redbox la tua è una io non sincronizzo c'ho una traccia unica per tutto ecco perché non me la ricordavo io dico subito abbiamo dato l'invito ragazzi dovrete avercelo io sono dentro tu mi vedi Gabby no io non ti vedo e allora sto creando sto creando ragazzi sto creando ah crea crea dai crea va bene è una divinità oggi prima luce luce fu e adesso crei le partite crei le cose no cosa cacchio ho fatto devo fare online sono andato con dei botte hai riabbiato un livello come si è un manfo flat no quella volta Gabby aiuto ah una volta ho riabbiato un'intera partita perché sono distratto un'ora e mezza di partita no ma io sono sono un po' una persona distratta è quello il problema ma fin troppo no perché non sono multitasking ho sto problema non sono vabbè fai l'aggiornamento c'è android mi riesco a fare una cosa devo aggiornare il bios allora anche il trio sui quadri bassa che funzioni perché sei troppo distratto adesso adesso si anche voi usate windows 95 come me io uso windows ne windows me comunque forse va ragazzi provate a entrare ma si che proviamo non mi ha detto errori fatto vi vedo Gabby sono dentro vedo tutti quanti perfetto metti rapids inizia partita e io provo e se non vi becco non vi vedo comunque ci vediamo un'altra volta è stato un piacere io non vi vedo a te partita no eh questo è il problema siamo ancora in lobby no ok vi vedo vi vedo io vi vedo io vedo ancora la lobby no ma che succede quindi se io tiro una carta che succede ecco no io sono ancora in lobby eh sì ma cos'è sta storia amico che bello uno ah l'on è crashato aspetta aspetta mi fa entrare adesso mi fa entrare adesso aspetta aspetta provate ad entrare mio pezzo no mi ho po no no vi ha sostituito ho disconnesso andiamo su widget ragazzi impossibile unirsi alla partita andiamo su widget andiamo su widget ah io volevo provare le bombe eh vorrei provare sentilo se no prova tu un secondo a crearla l'on arrivo no vai provare classica metti i rabbi sbaglio del bombe andrea per i 99 centesimi fnaf forever un euro e lo rezzo raffaele tranquilli adesso fixiamo tutto eh se no se non fixiamo cambiamo ma in qualche modo fixiamo un secondo risolveremo come abbiamo sempre fatto con tante mazzate in testa con tanti scleri la faccio classica classica con qui non abbiamo problemi siamo posto è classica più classica si può che è più buona mi avete invitato voi uno e due fatto eccolo qua io sono dentro e vedo l'orn come si vado a voi dove arrivano gli inviti di soldi shift f2 shift f2 shift f4 shift jp notification se fai l'oltre f4 lo sblocchi le carte segreti sì quello che si paga ma dove prendere questo vedo no notification ah ok è provvista ok ok vi vedo io non vedo te tu non vedi me no io gaby lo vedo perfetto io sono già dentro c'è uno di noi che ha praticamente il nate ristretto probabilmente io in questo caso e quindi blocca la partita no mi sei uscito gaby adesso vabbè dai andiamo su wichit andiamo su wichit però ci sono le bombe su wichit eh ci sono no ci sono i jamsker per te redbox andiamo di jamsker è troppo tardi per i jamsker dai ragazzi che abbiamo gioco andiamo dopo le 8 no i jamsker no regolamente il condominio dice dopo le 8 inizio i jamsker ok andiamo su wichit andate perché io non posso no tu puoi andare su wichit su fortnite sì su wichit sì ma su fortnite no devo scaricarlo ora wichit cosa perché ho ristallato aspetta vediamo quanto ci mette ragazzi posso scaricare mentre faccio la live ma cosa stai dicendo no aiuto ho una fibra ragazzi posso sì è fabbri fibra ma fai un po' dire è così che quella sera gabi fece crashare internet aspetta aspetta no sto scaricando due minuti non ti faccio ti faccio la base intanto fai un po' di freestyle ragazzi mi vedete la gare no ma no no sono negato come la qualità dello stream sto scaricando un gioco mentre faccio la live no veramente se me la regge faccio un monumento a fastweb ma qua cosa no non si fa pubblicità gratuita non ti ha insegnato niente nessuno frostweb 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 siamo dopo andiamo sulla mappa quella innevata quindi va bene aspetta che controllo un attimo se come mi vede la gente adesso vede un puntino nero io ti vedo con lo schermo nero ma un movimento gigante ehi ragazzi come vai sono in ritardo allora intanto per tenerli buoni dico minecraft hardcore l'abbiamo finita non nominarlo ragazzi abbiamo finito Mario Farco abbiamo tutto l'ha detto l'ha detto l'ha detto ce l'abbiamo fatta oggi l'ultima clip è fatta un'ora e mezza di film ragazzi di animazione no un'ora e mezza però abbiamo veramente un migliore di budget abbiamo lavorato come dei cani e sta poi io guarderò il box office eh Gabby cosa fai? il primo weekend di box office sì sì a parte comunque sapete cosa vi consiglio di andare a guardare il cinema? Ready Player One mi sta intrippando un casino quel film grazie per farmi la promo al mio film guardalo mi chiamavano Redbox e Spielberg con l'accento sbagliata però Spielberg non so cosa c'avete in comune anzi Spielberg in comune quando facevi filmetti di arma c'era quei livelli ah filmetti adesso prima mi dicevi oh miglior editing vediamo comunque mi ha scaricato si è triggerato male mancano otto secondi filmetti no no dopo questa ti mando 72 jumps che era al secondo ok grazie Fibra sono riuscito a scaricare Wichit nel tempo di record grazie Fibra per non essere più di quello di Uomini di Mare vabbè raga io vi sto aspettando col mio cos'è sta musica così arabeggiante ragazzi un secondo attivo mi rimpicciolisco questa volta cambio direzione per farmi una ragione c'è che gabbiano è Antman perché si rimpicciolisce aspetta Wichit vediamo se me lo sgama di solito questo cos'è che deve fare ok ok perfetto com'è che facevamo mi inviti tu lonna che la di solito faccio io vai vai aspetta aspetta devo ricordarmi aspetta play è un attimo porti pazienza che c'è subito custom match create game volete quello con le carte esplosive o con le carte esplosive no ero per venese no ti stavo paraculando ti stavo paraculando io stavo già pensando dove volete andare di bello che mappa volete fare ma io ho un po' di caldo quindi va bene anche quella ghiacciata se no possiamo andare in spiaggia se avete freddo quella che vuoi tanto vi arro su tutte sentilo aspetta aspetta contro max player 3 ma solo ma io ho un po' più spazio ho la testa grossa dai ragazzi sono pronto aspetta aspetta ogni volta che cambi la mappa faccia sto bug acquetti bug datemi acquetti bug ah se no da cambi la mappa devi dirgli che team choice random allora se succede qualcosa di brutto qualcuno caccia un rutto una scoreggia si distrae chiunque e non scoprono che abbiamo fatto qualcosa vedo che vado online online e vi invito ma salve ma la vedo online anche io spiu spiu invito a giocare oh la viuuu ragazzi red non ti vedo online ah mi sto unendo alla partita non ti preoccupare aspetta mi è arrivato l'invito ma non me l'ho fatto cliccare quindi devo accettarlo in maniera sorta ok ci sono ci sono dentro oh sono dentro e metto subito il jam scherra wish it con the red box and the lord and the lord allora scegliamo il potere quello che piace tanto al red box ce l'ho ok body slam gallina ragazzi siamo pronti ok con la fortuna di gabby gabby mettete tutti ready mettete tutti ready ok no non sono io non sono io perfetto non sono io porco cane ok diventerò ragazzi scrivete cosa volete cosa devo diventare un melone una vivita di bro oppure un ananas una candela ragazzuoli ragazzi fatemi sapere io prenderò la prima cosa che mi dicete di diventare che micosa che micosa scusa qualcuno ruti per favore dobbiamo distrarre la massa ma cos'è ok è la nonna oh oh giorgia 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 pollo scelgo te pollo mcdonald oh vedo il pollo vedo il pollo ragazzi il pollo si sta avvicinando a me ragazzi guardatelo là ma quanto brutto è ma quanto brutto sei sei veramente sarebbe lo te porco cane io appunto mi sono trasformato per non essere così bello porco cane ci avevi jumpscare non solo red è ilon come non solo red mi sono caccatissimo tantissimo ma cosa ho fatto ho sbagliato cosa hai fatto gabby aspetta come non è tornato strega basta red l'ho tirato non sono strega no allora devo punirlo devo punirlo ho sbagliato tasto vieni qua salvo io salvami no ho pochissima vita mi prude un occhio nella vita vera ma perché esiste la vita vera oltre a quella virtuale non è la playstation non mi asca mai gabby dove sei andato la mia casa gabby non era che non ti avevo visto eh gabby allora ti tiro l'altro jumpscare dove sei andato gabby non sono quello non sono quello non è sicuro che non sei quello se questo magari guarda dietro di te lonna c'è uno jumpscare aiuto c'è uno jumpscare dietro di te vieni qua gabby vieni qua gabby ormai la traiardo la traiardo no hai appena detto di non fai vabbè devo fare io ma io faccio uno più veloce così no ma io c'ho il rampone eh ma io faccio uno scopo uno scendi da lì che è pericoloso nooo è pericoloso è pericoloso però puoi ghostare red puoi ghostare red è solo perché ti ho detto che sei brutto e grasso solo per questa il bello è che sto seguendo io a te lun come mi stai seguendo tu a me sto seguendo io vediamo dove sono eh ragazzi non ho fatto a tempo era troppo stressful allora vedete sto dove sei red quello fai jumpscare dove sei red da nessuna parte quindi non sei questo tipo frutto qua no ok volevo essere sicuro con un'abilità segreta guarda gabby è un po' siccadibile non lo vedrò mai ti ho visto tantissimo via me ne vado aiuto qui abbiamo red box che tende a scappare adottolando strisciando attaccato alla vita come non mai ho bisogno di un altro paio di mutande vorrà diventare guarda cosa faccio guarda cosa faccio mamma mia dove è winnest world record del lancio a melone guarda cosa faccio melone ah io ho sbottuto sulla palma bravo 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 non ti sgama più fai anche le risate attiralo sì sì ma l'onna l'hai lasciato andare così guarda che c'è solo red box contro ma dov'è ti stai godendo e lui ha detto vabbè sono in un'isola tropicale che faccio la caccia alle streghe guarda le luci guarda le luci che luci oddio si è ribaltata la luce che luci non ho pagato la bolletta me ne vado no 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 l'hai mancato tantissimo dov'è l'hai mancato tantissimo ma noi streghe avremo la vendetta al prossimo turno su l'hunter guardatevi è di nuovo tu? però io ho fatto il record ho fatto 331 metri a piedi mi sono fatto questa trippa non è che posso fare tanti metri no ragazzi io sono nato strego ma dopo diventerò una bellissima modella russa perché a forza di far jogging e volare tu ci sei nato modella russa no io sono nato e basta ragazzi sono nato va bene hai questo potere fantastico che non ha nessuna persona nel mondo io dico che è red mettete red i ragazzi mettete red boxy l'ho detto che era red vedi è red nooo non mi piace fare il cercatore 18 allora se io ragazzi io la provo io la provo no se mi fate se mi fate io la provo qualcosa deve succedere aspetta che potere avevo? ah il potere di generare eh chissi ah allora non mi farò fregare adesso che lo so hai capito eh ma non sai qual è? no non ho capito oh ma è sparita la parte aiuto vado in mare ma perché ci sono già i funghetti qua? vado in mare red boxy red brighella red brighella red boxy aiuto non farmi del male non mi vedi là non farmi del mare ma c'è una strega aspetta c'è una strega qua sì e non sono io eeeh red boxy ti ho fregato non te l'aspettavi non mi hai fatto non vedermi ti sto portando tutti i piedi sono il cocco sano sono il cocco del gargano ah ma non devi dire da solo sono patti dove è volata quella palla là? è il sponge ball dove è volata la palla? dov'è? i funghi non capisco niente sono i funghi red non è che ci devi capire più di tanto io ho buttato un pollo ma non sono bravo guarda che mi passi in parte la sera con ragazzi ma quella gallina è tua red box posso comprarla? quale gallina? quella gallina parla quella gallina parla quella gallina parla dai dove si? ma dove siamo red brug? dove siamo? dove siamo? ma dove siamo red brug? ma dove siete? ma dove siete? no 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 non su di me non su di me tranquillo tranquillo non su di me bravo bravo oh cavolo vai via vai via vai via vai via meglio ne mare no 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 non capisco niente va beh analizziamo la colpa widget vabbè ragazzi ho trovato il punto perfetto se io mi metto qua sotto come fa a trovarmi qua ragazzi cioè io non so come fa lì sotto dove? lì sotto sotto ma io non vi troverò mai lo so lo sapete? per il tubo vero si diventa anche una di queste com'è che si faceva una di cosa fatemi un indizio qualcosa allora hai presente le barche devi vedere devi giocare a memoria non c'entra un cacchio aspetta guarda dietro di te dietro di te davvero prendi la mia sorella ma siete due streghe no è lei è lei no sei tu sei tu chi è tra noi due eh non capisco più i due eh ma sei andata qui no ma dove sei finita no pensavo che avessi sbagliato clamorosamente il brutto eh ho sbagliato colpito la tua collega stavi sbagliando però stavi sbagliando sono incastrato no dovevo camperarmela ragazzi dovevo camperarmela vediamo dove è andato Lon quindi dove è Lon allora Lon è praticamente sta facendo una gita in barca quale c'è ne sono due di barche qui ma non può darsi che non c'entri quelle barche ma sta facendo una gita posso dirti che sta facendo una gita sono su internet sono su internet ecco esatto è su non capisco c'è explorer ma c'è anche un'altra definizione firefox no browser no 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 un'altra cosa si fa quando si va su internet redbox naviga no in inglese sono una compagnia che da di carburante ero surf comunque redbox ma hai sbagliato sono una compagnia che da carburante ah quello è quale no io vi assicuro che sei in tilt io non capisco niente sei in tilt? sei in tilt è da tower davvero? è tantissimo ma porco cane redbox veramente ah sei laggiù? come fai a sapere dove sono? guarda sta facendo anche il woo 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 dov'è redbox? lo senti redbox? vieni vicino ti sfido dai 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 ma ti sta già sfidando? è più vicino di così? ma come è più vicino? sei questa palla? no no è shell se dico shell ah è un guscio eh a parte che è vero che la compagnia c'è proprio un nome uguale ma dai non ci avevo pensato io pensavo eh eh c'è tanto l'indizione eh ma io ti assicuro adesso sono un oggetto che tu non dovresti proprio toccare in questo momento esatto ma guarda non lo so soprattutto adesso con sta pancia no lo so tutto dopo che ti sei fatto di funghetti asicinogeni che sono brutti 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 diventa il mio pollo non posso voglio che tu diventi il mio pollo no red non posso tu hai quei giochini strani red sono le barche volanti va bene ragazzi io non ce la faccio ti abbiamo devastato cioè ti ha devastato che sono morto subito ma guarda è una barca red ero la conchiglia gigantesca e prima ero ancora la barca non ci sto scherzando non ci sto credendo grazie mille troll pvp 2 euro ma è bello che sei stato sulla roccia sopra hai guardato quella cavolo di conchiglia 70 volte non ti ho visto ma ti muovevi spero gliel'ho detto bene sennò ti muovevi noi davanti ai tuoi occhi poi ciao cric 06 grazie mille per un euro cric 06 questi sono i nickname cioè tu avresti voluto avere sto nickname te l'ha fregato prima lui no ma io mi avrei messo per me la cipolla mettete il radè mettete il radè ma basta ma io non sono lato però questa volta la voglio vincere questa volta gioco serio ragazzi mi distrago poco mi prendo cosa questa è l'isola di pasqua ah sono ancora io il cacciatore lo sapete che potete anche stare fermi dove siete che io non vi trovo mai ma questa roccia parla ragazzi ma sono sicuro che se sto fermo non mi trovi mai questa roccia parla è viva ma se io mi metto devo trovare prendo questo poi vado qua guarda che bello qua così cioè qua è impossibile ragazzi messo così sembro quasi il seme della pianta volando avanti e indietro fatti cavoli tuoi red ragazzi io non so cosa devo formaggio no 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 è quello scarso di red box giochiamo un po' a palla vuoi giocare un po' a palla con me red ma io vedo un orsetto là sopra ma non credo salvatore bell'orsetto uiii metta scatola la vole stai traslocando dai dai rifiutare aspetta aspetta che devo creare un mio clone non mi vedi più guarda vedete quella cosa che sto creando sono i miei clone perchè ci sono le scatole finte lo sapevo che redbox non era quello vero eh sì non sono più quello di mefisted comunque io non capisco da dove lo stai lon non sei non ti fanno paura le altezze vero per niente eeeh ehi redbox basta con queste cose finte vieni fatto in giro con me red sono lì sono finte e io non ci capisco niente redbox io mi butto in acqua redbox quante lumiero vieni con lumiero vieni con lumiero uno di voi deve essere per forza è vero come l'hai trollato no aspetta aspetta devo diventare cocco bello cocco bello sono abbracciami abbracciami ho bisogno d'affetto ho bisogno d'affetto ma non con le patate dai mi sto volendo sempre lasciami questa vittoria per favore solo se mi dici dove lo allora ok no perché no allora che sto cavolo un'altra volta aspetta dov'è finito gabby no 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 volevo fare lo spiritoso e non lo so veramente dove sono hai perso tantissimo mamma mia ragazzo l'ho visto mentre si trasformava ma io ti giuro esiste il daltonismo e c'è il formismo quello che non capisce le forme e non sa dove si nasconde la gente esatto però tu hai una bella forma quante torte hai mangiato quante patate arrosto mamma mia quella pancia veramente è un ice simulator potrei guardarla tutto il giorno che cos'è è quasi intrattenente che cosa eh gabby grazie mille io ti ho lasciato andare ma tu devi dimmi dove è lon dimmi dove è lon o ucciderò tutti ok lon è sopra una roccia con la faccia l'avevo già visto no 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 l'hai sgavato così dai cos'è sta roba ma io non l'avevo non sapevo dove si è visto fatti vedere una cosa guarda qua cos'è quanto bello era l'orsacchiotto ragazzi voglio tornare adesso l'orsacchiotto ma è un piccone di minecraft raga sì con l'incazzo altrimenti non ce l'avrei mai fatto hai ucciso un piccone di minecraft lo andrò a dire a tutte le sei una trotta sei una trotta guarda era il pezzo mancante della hardcore di gabby adesso non la può più pubblicare nooo vergognati mancava proprio il piccone per finirla tutto per invidia vuoi impermi la serie ragazzi redbox non vuole far uscire minecraft tanto non è vero io gliel'avevo hashtag redbox odia minecraft odia minecraftiani io avevo già caricato l'episodio di streaming illegalmente cosa? della tua minecraft cosa? basta l'amicizia un'amicizia millenaria distrutta così ma dove l'hai caricata? su vimeo o su vevo? sai quante visite ha fatto? no aspetta sai quante ha fatto 3 milioni di visite in 3 giorni aiuto sei ma perchè ero io che facevo F5 comunque l'ho caricata su dailymotion alla fine ecco ma non ti sia stancato il dito Lorna a forza di cambiamo mappa ragazzi cambiamo mappa cambiamo mappa cambiamo mappa cambiamo mappa cambiamo mappa no no ma per una volta che non ero io dopo sto gioco facciamo anche fortnite tranquilli boys ho sconto cos'è tutta sta confidenza su fortnite eh guarda che hai fatto arrabbiate arrabbiare un iscritto redbox ha detto stai zitto redbox vogliamo minecraft guarda che dopo vengono sotto i tuoi video non sotto i miei vengono sotto i tuoi ma smettete di andare niente e non ho mai fatto è che qui ne ha detto che hai caricato su vevo i miei video eh comunque mi hai invitato va bene ragazzi io chiudo il canale perchè in realtà io sono autobasic salve a tutti io sono drongamer e sono qui per parlarvi di redbox una persona orribile che odinamata ma già che ci sei lonna puoi start a una registrazione e ti viene un video per domani oggi parliamo di uno youtuber che si è creato veramente una nomea incredibilmente negativa per il suo omicidio di un innocente piccone di minecraft ma mia storia con la voce anche seria più seria di così è stronta dopo ci devo fare l'editing eh cioè mi stai facendo più l'alto il suo nome è Randon per gli amici Randon possiamo io dov'è il mio avvocato noto è più come Samantha nell'intimità no mi chiamo Maria non voglio sapere queste storie allora ah pensate che mi ero dimenticato che sono l'hanta ah ma io non sto giocando allora picchi a redbox ti dico dov'è perchè siccome non gioco non mi sto divertendo è una strega e sta cercando di cercare è una nave verso mare per mare che io non perchè non fate un po' di è un cappello nuotante no se non lo trovi la non veramente puoi quittare puoi quittare puoi proprio lasciare questo lavoro guarda guarda la gallina va velocissima lei è fuocata no ragazzi cioè io a Lon non gli darei mai il mio cane il mio chihuahua se devo andare via io non gli darei mai la mia strega tu non gli dai mai il brufolo è una strega è ancora una strega è ancora una strega ma guarda che ti sta trollando Lon è una strega che è in costume una strega che è schifo una strega in burgini come si facevano quelle ah ecco oddio mi sono incastrato aspetta ma quali sei delle due ah ok no mi sono incastrato si è incastrato Gag Lon iha però aspetta quale sono delle due Lon noi avevamo detto cambia mappa ma hai messo la mappa di prima no non l'ho cambiata non l'ho cambiata perchè ero io l'ante e ho detto mi dispiacere iha quale sono delle due delle due cosa delle due streghe ma dove siete non vi vedo neanche ma girati no cos'era quella è questa che sta correndo di qua red no non sono questa che sta correndo da questa parte vieni qua che ti controllo un attimino non ho visto se era quel bel costumino no 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 mens non lo vedo più non lo vedo più aspetta ti salvo io redbox no è arrivato una no è arrivata una donation targata a Lon ma dov'è è arrivata una targata a Lon passagliela devo passartela a Lon oh non devi trovare red è scappato philip zen dice salutami Lon ma smetti di seguirli di lavorare meno guarda dove gabbi guarda dove gabbi oh dio gira ti ti prego ero lì comunque sai si eccola però con la ghost cam dove dove dopo glielo dico philip lo vedo molto concentrato Lon non ho molto concentrato ma comunque ha detto che devi lavorare meno Lon che stai troppo a lavorare lo vedono anche loro quanto lavori eh guarda che panza mi è venuta su dove siete eh Lon sono la luce nel buio più recondito ma dove cocco bello cocco oh 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 sono caduto dall'albero aiuto sono caduto dall'albero aiuto sono caduto dall'albero dove sei? è quel libro Lon dove sei? sei dovuto essere uno dei frutti sugli alberi quale albero? quale frutta? dai mancano 30 secondi è il frutto dell'amor è dietro di te ahia ahiaiaia oddio ma come hai fatto a non vedermi? sono enorme eh redbox per scendere vuole usare la scala perché non ce la fa si spacca si spacca quella zucca quella testa di cocco di cocco dov'è? ero un frutto sull'albero però adesso non lo so ero un pezzo di cocco no non ci vedo mai nella vita è adesso diventato una cassa è una cassa è una cassa di banane non è davanti a te sono una cassa di banane nooo è perché tu hai la possibilità di diventare una delle prop della mappa come? cos'è che ho io? comunque cambia un secondo mappa Lon che così ne facciamo una voglio fare una da hunter allora vote kick ridebox no dai ma perché perfetto l'amicizia di noi LGT vabbè mi auto voto mi sono votato per kickarmi da solo vedi per pur di non dargli la soddisfazione quella della libreria o quella della città libreria solo interno o anche esterno? Gabby decidi tu ma anche esterno così dai abbiamo più ok più action più action più action joinate join join subito join sto joinando sto joinando sto joinando e non dice che stavate scherzando prima sai cosa succede vero? da questa? live che mi becco un voto di hating gratuito yeee ragazzi no tranquilli stiamo scherzando non subito almeno ah non su maledizione no stiamo scherzando ragazzi lasciate like a redbox che si impegna tanto per il suo channel e per quanto di minecraft lui vuole fare uscire minecraft lui mi ha sempre detto continua la serie che vai bene si si palla tutto il giorno mi raccomando lavora si 24 7 vi raccomando non dormire comunque sono un ladro di patate e non vedo l'ora di dispensarle di darne un po' voglio condividere il mio pasto qua vedo che state facendo il finimondo proprio fuori dalla mia porta davvero? Gabbì dove sei? mi presento mio nonno gbblilperto quarto gbblilperto e questo è il mio servo si chiamava Hulk grazie di veglielo detto red ma non è vero che sei un quadro e questa è il cicorita la mia gallina oh Gabbì guarda che bello ma siete tutti sempre sopra ma io ho capito sta mappa loro stanno sempre sopra il tetto no? non sanno fa altro non è vero non sempre allora io mi appendo cavolo aspetta aspetta mi devo pendere si vedo 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 sei cheese è andato dentro è andato dentro è andato dentro ah no aspetta sei la in mezzo al fumo guarda 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 eh sei questo no no sei fake sei fake è qua vicino allora è qua vicino è uno di questi aiuto sono caduto giù io sono me stesso aspetta no non sei quello aiuto dove sei dov'è mi lascerò non mi vesti ragazzi chi è allora i vasi sono al loro posto dov'è ma è ancora sul tetto Gabby io sono voi siete la via da un'ora magari no aspetta sono uscito da una vita Gabby dai ti blocco l'uscita no non è questo ti blocco l'uscita no ah 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 chi sta ah 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 come bruco aiutami non dai red box ti faccio vedere io il peso della cultura aiutamilo aiutamilo ti faccio vedere io il peso della cultura oh ho scavato anche vai via vai via ma dai red ma l'hai portato da me sei 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 ho un hp ho un hp ho un hp bene ti eliminerò dopo vai via dopo che l'hai eliminato Ron che se l'hai super bello Gabby dai non vai aspetta aspetta non mi sca... no si è trasformato giuro cosa sei non ho assolutamente visto cosa sei eeeh ci si può ubriacare se lo sniffi non ho visto no quello non è dove sei andato Lon aspetta eh nel labirinto no nel dentro casa porca vacca cioè quanti hp avevi? eeeh pochi 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 eh allora vuol dire che sei qua vicino? ride bene chi ride ultimo sei il picco rick? no non sei il picco rick qua ci sono due bagni sono molto... no eh usale un po' uno Gabby girati Gabby non ho questi problemi aaaah non so che non sei tu però sei aaaaaah nooo 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 era partita da la e ora ha risulto le tue anime come il Dovaki Dovaki il Dovaki con l'accento su Skyrim no 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 e poi su Morrowind Puzidi Pim cos'è? cos'è? è una canzone che è resa brutta del mare la chiediamo alla Bethesda di metterla sul nuovo Elder Scrolls assolutamente eeeh ma fondiamo la Tretesda la Tretesda la Tretesda meglio fondare non ci sono mai abbastanza Tresda nella vita non ci sono mai abbastanza Tresda la Tretesda la Tretesda mi farò l'azienda così aaaah la mia moglie guardate questa era mia madre dell'elmo di cibo se cinta Tretesda si vede su abbiamo già anche lì cosa? abbiamo anche l'inno possiamo modificare l'inno di Mammeli per l'inno di Tretesda cosa sto facendo Lon? quando scopri quando Gabi ti tipo dietro l'angolo mobile hai presente quando sei bulimico mangi tanto e poi puoi evitare come a Roma? niente 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 cioè sei uno di quelli allora uno di quelli cosa? ehi eri sopra non ti permetti sono una categoria protetta io l'ho visto l'ho visto ti devo raggiungere non non puoi scappare dalla legge non mi recupererai mai non mi recupererai mai non mi recupererai mai capix scemo chi legge ma perché non riesco ma io siccome sono così grosso non riesco a raggiungere il tetto velocemente eh ma c'è il rampino cavolo c'ho due pittorali che altro che tetto no sono tetto eh eh child friendly channel eh vabbè ma sai come da bambini si usano per nutrirsi quindi eh e quindi child dai vieni qua non eh non riesco io sono impedito a volare c'ho un rampino e non sono capace ah ma io ero ancora sul tetto te ero uscito da quel dì da quel dì da quel dì e lui sei lì voglio vincere almeno un game prima di quittare sto game sto game ho fatto la riva ho fatto la riva eh copyright Facciamo un gioco con tre teste che sono meglio di una ha fatto una donation con scritto aperta parentesi devo decifrarla wow gli darò il mio codice da vincere è un emotion sai che i russi fanno le faccine senza i due punti? però non ta una faccina che rida ah Ah! oh senti comunque contento Ecco perché vado a vincere sempre lo stesso, no? Perché non stanno... Vanno a memoria muscolare. Eh, sai che sono io? Ah, ragazzi, io da buon tedesco e ne ho trovato ciò che... Chi è sto qua? Guarda, chi è dietro? Hai visto? Chi è quello là? Adesso mi metto io a tirarvi schifezzi. Non posso. Perché ti brucia la scopa? Dove l'hai comprata? Era un negozio di fiamme. Una fiammiferaria. Era un'occasione imperdibile. È un'occasione d'oro. Io non ce la faccio, ecco. Gabi, mi fai to prendere un colpo. No, sono caduto giù. Sono tuo amico, dai, ti annaffio. Ti annaffio, ti annaffio. Aspetta, un po' di birra e cresci tantissimo. Oh, guarda che posto! Non guarda questo, bellissimo. Oh, geniale. Aspetta, guarda, guarda, Gabi. Mamma mia, sei diventato... Mamma mia! No, è introvabile. Aspetta, spegni, spegni è meglio. Introvabile. Introvabili. No! Rimani su? Oh, facciamo i versi al nastro finché non ci trova. Facciamo così. Dai, dai. Aspetta che devo mettermi bene. Sto giocando quasi senza audio, quindi è un po'... Attivalo. Porca vacca, è un casino. Brava. Il bello è che fa l'eco. No, Gabi, Gabi, ti spegnerà la roba. Sono impedito! Oh, non ce la faccio! Acqua... Aspetta, la devo ricaricare. Rocchetta, rocchetta. Ma no, non fare pubblicità gratuita! No, mi pagano 20 euro ogni volta che dico rocchetta. Ma dai, voglio 5... Dai, rocchetta, rocchetta, rocchetta. Dai, 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 in fattura. No, che ti pisci addosso dopo, sai che fattura. Il gioco si chiama Wichita per chi se lo chiede. Aspetta che ci torna su. Ok, piano. Ho sentito un verso. Ok, perfetto. Ok. Ho sentito un verso. Non ci letterà mai, Gabi, fidati. Eh! Assolutamente. Qual è il tasto per ridere? Ma sì! Qual è il tasto per ruttare, Redmond? Ma... Qual è il tasto per ruttare? Ah, eh, io ho un alfabeto. Chi è che sta ruttando? Io! Ma Redmond, ti vergogni. Child friendly, ti hai detto. Aspetta. Qual è il tasto comunque, ragazzi? Uno e due. Uno e due. Ragazzi! Ma il bello è che sto cambiando proprio ogni 10 secondi e lui non ci nota. Ma perché sono sul tetto? Ma noi non siamo sul tetto. Chi te l'ha detto che siamo sul tetto? L'ho appena detto che siete sul tetto, poi hai detto che siamo in alto. Perché gli hai detto che sei sul tetto? Non dovevi dire? Maledetto. Maledetto. Perché sei sul tetto? Sul tetto. Io non... Dai, io ho un l'abiritto. L'hai detto, l'hai detto. Red, sono l'oggetto più grande della mappa. No, veramente. Cioè, L'UN non dovrebbe stare in questo punto. No, io sono scarsissimo, ragazzi. Ragazzi, siamo dentro. È per quello che ti abbiamo invitato. Allora, no. Redbox, siamo dentro. Siamo dentro. Non è vero. Ti giuro. Guarda che giurare è falso. Giuro Jurassic Park. Giuro Jurassic Park. Giuro Jurassic Park. Si giura solo nel parco. Salve. Non vedo... Se non ci noti, Red... No, Wichit... Accosticchia... Porcocane. È difficile notarti. Oscuri la porta quando entri. Però una bella... Comunque veramente... A sto punto mi trasformo anch'io per dargli una mano, perché sennò... No, ma io non ce la farò mai, ragazzi. Ma siamo dentro. Perché non vieni mai dentro? Ma mi sale l'ansia. Sono dentro. Cosa stai dicendo? Ah, sì, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Non sei andata. Oh, ho sentito un... Bush, non la porta. Chi potrebbe mai essere? No! Non ce la faccio. No! Ere, opere d'arte. No! 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 E vabbè? E poi? E Lon, dov'è Redbox? Dov'è Lon? Si è mosso. Cioè, è possibile che non hai notato una scala su un lampadario, Lon? È Redbox. C'era una scala, Red. C'era una scala, una gigantura. C'era una scala, hai notato mai che sono scivolato per sbaglio? Io vedo solo un tipo di... Sul lampadario dove c'era Gabi c'ero io come una gigantesca scala di lenga. Ti vi assicuro che mi mette un'ansia a cercare. No, no, io vado in... Hai claustrofobia? Ho un attacco di panico. Ho un attacco di panico. Ho un attacco di panico. Hai un attacco di panico. No, ne ho 3 o 4, fidati. Ma adesso hai anche pochi secondi, tra un po', scatta l'infartino. Dai, gli ultimi 15 secondi... Oh, ho sentito... Dai, ti dà un aiuto, te lo do. Lon è una bottiglia di aceto. Ecco, è un buonissimo vino, eh. È come trovare una bottiglia di aceto in un castello. Cioè, che indizio... Oh, hai simulato dal tetto! E così morì in Redbox. Va bene, grazie, ha vinto Lon, perché io non sono capace di... Ma Lon è troppo... Ma era una scala! Sì, ma tu... Ma io le ho toccate le scale! Ecco, poi vai a palpeggiare le scale di qualcun'altro. Ma non mi piace palpeggiare le scale, lo faccio per mestiere, basta. Ah, vabbè, lo... Oh, io faccio comunque l'ultima Wichit, poi vado una su Fortnite. Mamma mia, cos'è? Cosa sto sbloccando? Porca vacca. Tu Lon, te la fai una duel con me, eh? Io ho sbloccato il Firecrack, eh? Sicuro? Guarda che è morte assicurata con me. Ma proviamo, ti provo a carriare, vediamo cosa succede. Allora, ragazzi... Sto diventando bro! Ci sono ancora rilante. Magari faccio un nabbo. Ma non male. Dai, ultimo turno, devo uccidervi tutti e due, dai. Modalità propria e nemmo supporto. Come gliela traardiamo stavolta. Mamma mia, di patate bollenti! Mamma mia, adesso è tipo Mozart. Io li uccido mentre ascolto la musica classica. Mi rilasso e mi fa tirare le patate. Ciao Gabby, ciao ciao! Mi sento come un gabbiano in gabbia, ma io segullo e volerò. Che regge, gliela traardiamo come streghe. Ah, da streghe? Streghe, streghe, streghe forever. Com'è che si fa tornare strega? Tieni premuto il tatto sinistro. Devo tirare le briciole per trovarvi come Hansel e Brezel? Hansel e Brezel! Hansel e Brezel è il versione. Cos'è questa roba? Oh, ma ha vinto il premio di miglior zucca dell'anno? Quella c'aveva il primo. Eh, sì! Eh, questa chi è? Bisogna che sarà! Sto potto patato! Ma smettere! Adesso siccome mi risparmi sempre. No, ma come? Ma dove? Ma dai! Ah, qua sei diventato il fantasma! Guardami Redbox, come sai? Guardami un attimo. Ti faccio il jumpscare. Guardami. Lo sai? Ragazzi, sono nei canali di Gabi 16-bit, 100% not fake reactions. Not fake reactions! Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta, eh. Ti sto per far paura, ma tu non lo sai. Ragazzi! A parte che non lo so, comunque la prendo sul serio. Io ne avrei bisogno per gli attacchi di panico. Allora, Lonna, un piccolo consiglio. Sei sempre là sul tetto? Sempre la strega. Sempre lì. Sei una strega? Sempre è stata la strega tutto il tempo. Tutto il tempo. Allora, ti dico solo che è in alto. Più di così non te lo posso dire. Già è una strega, poi se ti dico anche... Però è una strega, questo me lo assicurate. È solo una strega infocata. E non è più in alto. Non è più in alto. Eh, vabbè, però, se cambia posizione... Aspetta, fatti vedere, Lon, tanto... No, 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 Red, 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 Red. Aspetta. Però è una strega. Oddio. Oddio! Ma che ore sono, Lon? Ma che ore sono? Ma non lo so, guarda. Ma è dentro? Ma non lo vedi al contrario. No! Maledetto! Maledetto! Ti ha fregato la stanza. E io vado qua. Dove sei? Eccola! Croato! No, 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 no! No, ecco i fugghi del cazzo! I fugghi! I fugghi allucinogeni! Vedi, ma... Ah, porca patette! Arrivati! Non sei questo? È qua dentro. Lì non ti trova mai. Non ti trova mai! È nella mia sala! Nonno Giusperper! Nonno Giusperper! Capì! Segui la mia anima! Ah, portami tu, dove sei? Segui la mia anima! Non ti vedo, sei troppo trasparente! Materializzare! Sei questo! Sono qua! Ah, ecco! Ok, ti serio. Segui la mia... Ok, sì. Oh, Dio, non ce la faccio più, devo dire. Ok, sei per divan... Poi ti chiami Redbox, ti sei scelto proprio... Perché l'ho portato sul divano e gli ho detto che volevo portarlo da te, ma mi sono messo sul divano perché sono stanco. Rosso come te, poi, e mi hai anche fatto diventare rosso di rabbia. Adesso devo trovare... Allora, dai, un piccolo consiglio perché qua è veramente difficile. Sono una strega, porco cane, più facile di chiudere. Ma sei una strega ancora! È molto in alto! Ancora, non ho mai cambiato! Molto in alto, molto in alto! Io ti dico che da qua, aspetta, da quest'altezza lo vedo. Aspetta che mi appenda un vaso, sperando. No, ti ha una patata al vaso. Aspetta! Ok! Sto facendo parkour! Ah, ma è impossibile! Ma se tu sali lui scende, ma non ce la farai! Ma hai sceso? Ho i superpoteri! Ma hai sceso? I superpoteri! Non dirmi che è di nuovo nella mia stanza! Questa è la mia superpotonata! Vabbè, devo tornare sopra! È un gargoyle! Hai presente dove stanno i gargoyle? Ah, ok, ho capito tutto. Se riesco ad arrivarci. No, non ti vede! No, veramente, sto gioco è il delirio salire sulle cose! Manco sul coso! Ti do l'indizio definitivo! Dai, mancano 30 secondi! Albero azzurro! È un mondo fermo! Ma se non stai fermo non posso dargli l'indizio! Vabbè, non è che devo rimanere fermo io perché lui non ci arriva in tempo, eh! È di nuovo un gargoyle, però... No, aspetta, Gabby, non scendere! Perché sei sceso? Aspetta, usa le scale! Ok! Alle scale puoi cambiare, ricordatelo! Aspetta! Oddio, era lì un secondo fa! Era lì un secondo fa! Dov'è? L'ho visto! Era qualcosa! Dai, non mostrati, mancano 10 secondi! L'ho visto! No, no, no! Dov'era? Nel posto di prima! Era dove eri tu prima! Sì, ho vinto almeno la partita, ragazzi! 10 secondi, mancava la mia! Acci, derbolainazzo! Di cosa, di patate! Ok! Che tasche! Ok, ragazzi, concludiamo questa live andando su Fortenite! E allora io vi saluto tantissimo, ragazzi! E Redbox deve andare, quindi grazie mille per aver fatto... Ma perché c'è il gioco bloccato? Eh, se no ci saresti anche tu! Grazie mille per essere stato qui con noi! Ma sicuro! Se vuoi, tu l'on ce ne facciamo un assieme! Su Fortenite! Ciao a tutti, ragazzi! Aspetta che l'attivo Epic Games! Mi raccomando, state ai pati per la hardcore e per le magliette patologia che trovate solo nei rivenditori non ufficiali! Ma dovremmo farle, queste magliette! Nei medici non utilizzate! Ragazzi, vantici sapere se volete una maglia targata RGB! Le magliette patologia! Che secondo me ci starebbe! Sì, tantissimo! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao Redbox! Grazie per essere stato qui con noi! Ciao! Ok, dai! Concludiamo questa live con qualche game a Fortenite! Vediamo se sono migliorato! Ok! In questi giorni mi sono capitati veramente dei bei bei game! Spero di poter fare qualcosa di decente in live! Però devo dire, almeno per conto mio, ho visto dei grandi miglioramenti! Poi in live è più complicato però in teoria dovremo riuscire a fare qualcosa di carino! Proverò a non morire ancora prima di arrivare a terra! Ok, dai! Tu mi dai una mano! Alla fine comunque è per divertirci! Noi qua, questa live è una live non per tryhardare così tanto! Di solito se faccio solo Fortenite magari le tryhardo un po' Siamo qua con gli RGB! Ci piace la calma, ci piace scherzare, ci piace stuzzicarci, trollarci! Alla fine è questo un po' lo spirito della live! Ah! Una cosa ragazzi! Notate che ho shoppato su Fortenite! È successo! Prima o poi! E da quanto nerd! Voi vi dite, ma tu shoppi ma non ti piace il gioco? Lo fai solo per le views ragazzi! Ho fatto tutte le sfide! Guardate qua! Tutte le sfide mi sono fatto comprandolo in ritardo! Mi mancano solo due sfide che magari potremmo farli in questa live! L'obiettivo è completare le sfide! Facciamo così! Devo pestare uno con un piccone! Una volta mi sa che mi dà 10 minuti! Uccidi me! Fatta! Eh! No non posso! Se no lo farei! Sarei così cattivo! Un tempo si poteva fare! Andiamo a Pantano Putrido! Così troviamo due ceste! Poi ho finito anche le sfide di sta roba! Ok! Ti invito! Aspetta, sta ancora entrando! Poi devo cambiare posizione della camera! La mettiamo qua dai ragazzi! E la rimpiccioliamo un pochettino! Ok! Ok ragazzi! Qua dovrebbe andare bene! Ok! Poi ho preso il razzo! Questo qua mi avanzava qualche punto e l'ho preso! Tu mi hai invitato! Eh! Sta ancora entrando! Ah! Sta ancora entrando! E' lì che carica! 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 Comunque Venom Che prima non ti ho letto bene 5 euro Gabi ti seguo dai tempi di Don't Escape Sei davvero un grande continuo così! Grazie per tutti i bei momenti che mi hai fatto passare! Grazie mille a te! Venom Veramente fa piacere ricevere questi commenti! Grazie anche a GoMPlog 2 euro Ma Benny and the Ink Machine E' uscito! Mi avete detto Eh! Andrò a guardare! Se è uscito lo farò al più presto! Eeeh! E mi ha cliccato! Alex05 Che dona 2 euro e 29 Posso giocare con voi? Ti prego! Dopo magari ne farò una con gli iscritti Apro il gruppo E se ti ho in lista amici O comunque provo ad aggiungerti Magari ne potremo fare una assieme! Aspetta che mi hai cliccato e mi hai crashato Ti hai crashato! Bene! Bello! Ma è una gioia! Ma Red che problema ha? Che non ho capito! No! Credo che... Che Red... No! Perché adesso mi inanzia anche a me! No! Mi ha detto che gli hanno... Praticamente hanno tentato a entrare nel suo profilo Nel suo account Aia! E purtroppo Perché non mi si era mai chiuso così brutalmente! Speriamo bene! Ne vediamo un po' No! Anche perché ho anche il gioco originale Quello proprio per fare salva al mondo! No! Mi hai taccherato! No! Ma hai fatto l'aggiornamento! Sì! Sì! Si è aggiornato tutto! Aspetta! Adesso ricarica! Dai proviamo così! Dai che dobbiamo fare la partita La proviamo Confidare le ultime sfide! Me ne mancano solo Due lon! Solo due! E poi vabbè! Dopo dovrò ospire! Mi sa che ho il stesso problema di Red! Come? Anche a te! Mi ha detto anche a me Mi è stato rilevato un tentativo! Di e non ho finito di leggere Qualcuno ha tentato di hackerare anche il mio L'ha bloccato! Grazie! Veramente grazie! Forca vacca! Non ci credo! E adesso? Ma no! No! Va bene! Mi dispiace! Poi cosa hackerano? Che cosa è la modalità è gratuita Per altro? Porca vacca! Mi tocca! Non so neanche come rimediare Che si ricorda! Ragazzi allora apro Apro al pubblico! Entrate voi qualche iscritto Se volete entrare! Apro la faccio con voi la sfida! Ah cavolo! Mi spiace! Anche a me! No! Ma chi è che va a hackerare i profili dei cosi gratuiti? Ma non ci può! Siete spreggevoli ragazzi! Non ci credo! Cioè! Guardate come l'avete reso triste! Chi l'ha fatto deve vergognarsi! No il bello è che volevo registrare in questi giorni la modalità salva al mondo Che in tanti me l'hanno chiesta Adesso non posso più farlo Vabbè ma in qualche modo lo puoi recuperare Sì sì si sbloccherà in qualche modo Sperai Vabbè dai Ho l'account della mia assistente che ormai ricomincio tutto da capo per punizione Cavolo Vabbè a sto punto io siccome ormai ho detto che faccio Fortnite faccio Vai tranquillo vai tranquillo Buona fortuna Gabby! Fidati! Ti è andata meglio No dai! Non dire così! Ti sottovaluti! Secondo me avremmo fatto No 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 È la sfaiga nonché la totale assenza di mira Cioè se io sparo in alto Becco più nemici Sì ma non serve quella Comunque Ciao! Grazie mille per essere qua Ciao un vetro a stella Figurati! Buona fortuna! Ciao ragazzi! Ciao ciao! Ciao ragazzi per essere stato qui con me! Ciao! Grande Lon! Mi spiace che sia andata così Allora a questo punto Partiamo con gli iscritti Ciao! Ciao a tutti! Cambio un attimo il titolo della live in questo momento Così Mostro Live Epic Siamo in live in questo momento Ciao Ok dai ragazzi Io devo fare delle sfide quindi dobbiamo andare in alcuni punti E se adesso lo sto caricando Dai ragazzi cerchiamo di giocarcela bene Ragazzi io devo completare le sfide Su Fortnite quindi se mi date una mano Cioè Devo picchiare uno con un piccone Quindi se buttate uno a terra e non ci sono nemici L'ho presto io ragazzi così completo la sfida E poi devo andare a Paltano Putrido E trovare ancora due ceste mi pare Mi pare la Paltano Quindi devo andare là e ho completato tutte le sfide possibili al momento Ok ma Anch'io devo arrivare Nel squadro in top 12 E devo farlo uccidere Con i fucili e pesante Poi è la pompa Putrido so che è un posto brutto Ma andiamo a Pantano Putrido Perché Là ci sono le ceste dovevo fare la sfida Il microfono si sente un po' male Mi sa che mi ha preso il microfono della webcam Mi sa Quindi non parlerò tanto Cercate un po' di capire Dai miei movimenti Quindi andiamo a Puntrido Pantano Eh sì Andiamo ragazzi dai Dai ragazzi vediamo come va sta partita Cercherò di fare il mio meglio comunque Io non ho mai che sono tanto un pro Ma no tranquillo ma qua stiamo giocando tutti i porfano Alla fine sono le sfide che devo fare adesso Ok tranquillo tranquillo Comunque vedo gente Stiate attenti Ok ragazzi direi che dobbiamo assolutamente prendere Puntare su una cesta Cerchiamo di puntare su qualche cesta Su qualche punto Ok ok Ti chiamo se trovo qualche cesta L'ho trovata sotto l'albero Sì ok la prendo Medi fa cocaio L'ha preso un nemico aiuto Gabby 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 Cavolo Arrivo Sto sparando Gabby arrivo Però non ho neanche un'arma Tu vuoi avere pistola tipo da danni? Aspetta ho buttato giù uno e c'era uno dalle tue parti attento Sì l'ho visto ha preso la cesta Cavolo Ragazzi c'è uno che ha una cesta qua Siamo attenti Ma siamo in tanti comunque Dovremmo farcela Gestisco così Andiamo avanti così Mi dai uno dei due pompa per favore? Grazie Abbiamo trovato Eh la carabina mi dicono tutti che è abbastanza forte Che ti servono i proiettili quelli che ho preso? Caso? Ah tranquillo tranquillo in qualche modo adesso mi arrangio Eh se trovate cesta che dovrei aprirle io comunque Comunque in teoria avrei due Forse ho fatto quasi tutto Una ne avevo trovato Ne avevo trovato Eh adesso la cerco Oh Ti stanno sparando Sento spari Sento spari Oddio amico Bisogna prendere un po' di munizioni Usiamo sta pistola come secondo pompa Al limite ragazzi Perché la revolver è molto forte Capito Ho scontato un fucile a pompa Quindi devo Non posso aiutarti a distanza Hanno distrutto là in fondo Io ho materiali Non mi piace sta situa Sono più lento Sono più lento Eh se non abbiamo armi da lontano Se abbia delle bende Ho un help ecco Lo dai per favore L'ho droppato L'ha preso uno Eh sì No ragazzi Meglio scappare qua ragazzi Non abbiamo tante armi forti Ragazzi io ho le ceste Credo di averle prese Stiamo abbastanza morendo male Se questi si cesano Da me Da me Da me Da me Da me Dipendo Dai ragazzi Usciamo questo Ce la fai per favore Cerco di fargli un rush Cerco di raggirarli Cercate di coprirmi Gab io non posso coprirti Eh bad man a terra Ok adesso si Terra uno Morto Uno dietro il muretto Che avevamo creato Mamma mia Questi Questi Curatelo curatelo Provo a coprire Lasciatelo 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 Cavolo Dove farmi l'obiettivo del piccone Mi sono dimenticato di dirglielo La sopra ragazzi C'è qualcuno La sopra ragazzi c'è qualcuno Ma andiamo in safe ragazzi Proviamoci Dai 3 kill Vedete che già la mira Molto molto meglio ragazzi Grazie mille a tox Dopo proverò ad aggiungerti Cercherò di far giocare anche altri Anche te Alex Dato che me lo chiedi da tanto Cerco di invitarti dopo Io da queste parti non ci vengo mai Proprio perché Sì sì ma chi va a Paltano putrido Dai Solo io quando faccio le sfide Sennò non ci andrei manco Se mi pagano Però ho trovato anche tanto loot a volte Ma scusa Prima non ho capito Stai registrando No siamo Siamo in live almeno Ah Ok Gabby proteggimi un attimo Che guardo la tua live Dopo dopo dai Che sennò dopo ci ammazzano Puoi sempre rivedertela Perché viene salvata Ti conviene Che poi magari mi muori male No no ok ciao Poi mi sento in colpa io Eh ciao Cerchiamo di andare in safe Cavolo cavolo Credo che ho quasi tutte le sfide ragazzi Mi manca solo quella con il piccone Perché Cavolo la safe Ci sta dietro il sedere Gabby ma tu dove abiti Io abito in Germania Non mi sento in tedesca però Faccio su e giù Cioè vado anche Vado anche in Italia Comunque la zona ragazzi Non ho band Siamo messi male Siamo messi maluccio Ce le ho io le band Però Non ci arrivo Si usale tu Tranquillo Perdere vita così Spero di trovare qualcosa Magari qua per strada Qualcuno che si è ammazzato Ragazzi Serve loot Se non troviamo loot Se non troviamo loot Stiamo messi male Sto giocando con i miei iscritti ragazzi Quindi se sentite altra gente Sono iscritti perché voglio giocare un po' con voi Puoi darvi la possibilità Ma chi servono pende? A me servirebbero Ok Avicinati Grazie Ah ragazzi Non mi piace Zero scudo Zero di niente Le farfalle che mi fanno i jumpscare Quanti di voi si sono spaventati Su Fortnite Per le farfalle E io a volte mi partono I colpi veloci Quando le vedo Giuste giuste Gabby Devo trovare Devo trovare degli scudi Io c'ho Io c'ho la pistola pesante La vuoi? E te l'ho data io prima Era quella Che ti ho droppato O un'altra Quella La Desert Eagle Hai la Desert Eagle? Ah allora Allora perfetto Pensavo fosse la mia di prima Grazie La userò come secondo pompa Ma In che paese sei? Sono metà italiano E metà tedesco Dove sei nato In Germania Sono nato in un paesino Vicino a Monaco Si chiama Landsberg Non costringermi A pronunciare questi nomi Mio zio Invece È Oddio Scusa Non mi ricordavo Un nome Koblenz Koblenz Non la conosco Scusa ho sbagliato Dai ragazzi Siamo in safe Cerchiamo Gabby La prossima La facciamo In blitz A squadre Non credo Perché Praticamente Faremo a rotazione Dopo di questa Farò giocare anche A altre persone Perché facciamo Do più possibilità Anche ad altri Di giocare Quindi cercate Di star vivi E giochiamocela Il meglio che possiamo Sopra Davanti a noi Sopra 214 L'ho visto Si sparano Fai il muro Fai il muro No no ragazzi Ci hanno lasciato male Eravamo messi malissimo Vabbè tranquillo Dov'è Vadouman Vadouman dove Bene Grazie Pensavo che non mi trovassero in questo studio No 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 Eh vabbè dai Tranquilli tranquilli Aspetta che vado indietro Do la possibilità Anche agli altri Che devo giocare con Alex Dai GG ragazzi La prossima volta Andrò meglio Puoi cambiare là Il microfono Che Non so Mi sa che non parlerò Neanche tanto dopo Perché Non so se posso cambiarlo Da qui Vediamo gioco audio Non so se me lo posso Una missione l'ho fatta Ah aspetta Ora mi senti meglio Sì adesso Ok perfetto Comunque Dai ragazzi Io lascio il posto Anche ad altri GG Ok Allora ragazzi Adesso invito Il nostro buon Alex Vediamo se riesco Ad aggiungerlo Alexer 0 5 9 8 Che Da tantissimo Che vuole giocare Proviamo A Farlo entrale Entrale Vediamo un po' Dai Live con gli iscritti Vediamo se riusciamo A giocarci Qualche partita assieme Non so se è Ok Proviamo a invitare Un altro Che me lo chiedeva Da tanto Ok Invito Talks YouTube Proviamo a invitare Qua tutti iscritti Vediamo che riusciamo Vediamo che riusciamo a fare Dovrei forse averlo Vediamo Tox Io te l'ho inviata La richiesta Non so se farà in tempo Ad unirsi Sennò io apro la lobby Ma io vado da Alexer Così A posto Buonasera Buonasera Alex Buonasera Dai il gruppo aperto Entra Chi vuole entri Sì Sì Aspettiamo Un'altra gente Mettete ridi Dai siamo in 4 Ok Ho volto Stoppo la live Sennò sento tutto Doppio E mi confondo Meglio Meglio Ok A posto Tutti con le emoji Aspetta che tiro fuori la mia Eh però questa ragazzi Eh però questa Quella Quella che L'ho vista Ho detto no L'agli spendo I v-back Che avevo in più Quando ho preso Il passo Troppo bello Dove ci buttiamo? Eh dove ci buttiamo appunto Ragazzi Vediamo un secondo Ti metti ancora Non ci chiede che sto Giocando con Gabby Se sei veramente tu Gabby? Sì sì Sono io ragazzi Tranquilli Se sono Se sei tu ti ti porto Senza AINZ vai Drai Polizia Dai andiamo a corso Commercio Dai ragazzi Questa partita Vi voglio carichi Anzi ti devo dire Che non ho mai vinto Una partita Ma ancora sono incerta Della partita perfetta Io ho vinto A squadre 45 In numero 3 E a coppia 4 Io ne avrò vinte Una per ogni modalità Io no Io zero proprio di niente Arrivano sempre tipo Sul podio terzo Andiamo a scopo casa Andiamo su qualche casa Mi sa Io arrivo in ritardo Stavo guardando lo schermo E stavo andando Nella direzione opposta Ciao Simone Ledda Puoi salutare Matteo Ledda Suo fratello Ciao Matteo Segui da me E ieri è il suo compleanno Tanti auguri Matteo E grazie mille a Lorenzo Raffaele Che si chiama Gameover 787 nel game Magari vediamo se dopo Riusciamo a fare qualcosa Lancia granate Alex Ho paura Io mi sa che qua morirò male Ragazzi Vengo da Alex Troppa gente Sono riuscito a buttare giù Io non ho armi Mi spiace Alberto Mi spiace Alberto Sarai sempre nei nostri cuori Stanno lasciando Sono veloci A pochissima vita Gabby non è in caldo Eh cacchia Infatti è il 184 148 Porco cane No Ha preso il mio pompa Eh son morto Sfiga sfiga qua Siamo ordonati tanto mi dicono Eh abbiamo avuto sfiga Siamo andati Sono anche buttato in ritardo Non contiamo La facciamo in un'altra Non contiamo Questa era Siamo buttati male Fammi vedere le sfide Oh le ho completate tutte Ragazzi Completate Tutte le sfide di fortnite Guarda che bello Guarda qua Adesso dobbiamo aspettare I prossimi giorni Perché il mio obiettivo È arrivare Arrivare a prendermi Questa skin Io voglio quella finale Quella Leggendaria da sicario Che mi hanno detto Che mi assomiglia un po' A me con la barbetta La voglia è quella A che punto siete Guarda il pass Battaglia Livello L'ho finito Cioè tutte le sfide Che potevo fare Le ho fatte Sono al 66 Mi pare Ho visto Le sfide Non mi faccio Un po' Sulle sfide Ma Posso migliorare La mira Perché non è che Sì Non ho porto Ah no Prima eravamo andare Col secchiato Eh ragazzi Sì anch'io Sono caduto Nella trappola Di fortnite Mi ha preso Molto In questi giorni Ho voluto Ciopparmi Questo passo Perché ho detto Dai Alla fine durava tantissimo Aspettare il tarz Dato che ci gioco tanto Mi spendono Mi sa che c'è un tivo Proviamoci ragazzi Come va va Eh sì Cerchiamo di giocarla Al meglio Delle possibilità Eh sì Vedo un tivo Che sta arrivando Dopodiché Andiamo a noi Forse è meglio Nella casa Tutte sono marroni Aiuto Mi sa che c'è Solo un tivo Aiuto Il scommerino Vengo con Ho il pompe Che è l'arma più forte Oh lo scudo Finalmente Questo volevo da anni Non l'ho trovato mai Prima Se lo trovavo prima Era tutta un'altra storia Che bello Che bello Non è niente Adesso fatemi un po' Per usare le line Precate di non stare da sole No solo il fucile a poco Aiuto 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 Dai siamo Io ho una Desert Eagle E una Revolver Se gli vuole una Andiamo assieme Andiamo assieme Velluttiamo sta casa Sì Ok Ok questa casa È nostra Ce la prendiamo I gabbiani Quando assaltano Sono come i condor Non lasciano niente L'help Infatti Non mi hanno lasciato L'help Che volevo Ma a parte che non mi serviva Neanche Non perché sono troppo pro Ma perché avevo la vita Oh Chi lo vuole Ok prendetevi uno scudino Se volete Dai io ce l'ho già A 50 Condividere Questa è la regola Non devi essere egoista Se vuoi Allevarti un team Che poi ti segue In battaglia E non scappa Il primo pericolo Avete fusile D'assalto in più Nope Tox Casomai dopo Se ce la facciamo Ti l'invito Comunque bella raga Della live Eh sì Mi piace giocare con voi iscritti Ogni tanto stare in live È una cosa bella Raga ma dove stanno andando Andiamo solamente Prendendo un po' di risorse Poi E poi è stato lootato Vi dico solo questo Cos'è stato lootato È tutto da lootare Ah tutto da lootare Perfetto Perfetto A me serve un'arma a distanza Arrivo allora A me serve un'arma A distanza Ragazzi Se ne ho qua Non sono happy Ecco qua c'è un po' Qua Io vedo Nella casa A stante Risorse È sempre meglio averle Ok Guarda che bene Due pompa Però Manca Ma ok Qua c'è qualcosa Qua un'altra pompa blu Se volete Mi frego le munizioni Perché sono cattivo Io vedo Studini Ma sarà che sono anche In live stream Potrebbe Alex Qua sotto c'è la C'è la cesta Qua c'è una cesta Qua c'è una cesta Direi che non ci c'era Ma era di sopra Ma era di sopra Era qua Pensavo ci fosse un piano di sotto Io in sto gioco Non ho ancora capito Bene i rumori Faccio una fatica Non mani a capire Se una è sotto E una è sopra Non so se sono le mie cuffie Ma forse dovrei cambiarle Non lo so Gabby Ce l'avevo pensato Ma quando si shop Ha il pass battaglia Eh non ho capito Qualcuno vuole 50 di scudo Ce l'ho Prima Quando non mi ero visto la live Quando non mi ero visto la live Vieni a coberto nel set Ce la lascio qua Che il pass battaglia a Gabby Ogni volta che gioco con te non ce l'hai No adesso ce l'ho il pass battaglia Finalmente Lo so Comunque andiamo Da il punto Lo scudino Chi l'hai dato Quello da 50 Ad Alberto Ok ok Prendi prendi Ehi 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 Ciao ciao a tutti quelli che devono andare a dormire Tranquilli Adesso Questa qua Sento che andrà sempre meglio Eh si dai Io sarò là L'importante è farsi tante risorse Perché Arrivano quei momenti Dove devi creare il fortino La non voglio rimanere senza Assolutamente no Abbiamo già preso un bel paio di robe Mi va bene Mi va bene Team Ah 57 ragazzi Io ho visto Ho visto il cecchino Dov'è C'è arrivato 57 Uno preso col cecchino Dov'è Ho visto L'ho Non lo vedo, dove va? Ah, una butta da giù, ok Rianimatelo, rianimatelo Ok, qua c'è un medikit point Aspetta che te lo porto Vai Rai Eh ho sette pozioni Aspetta Me ne passi tu? Gabby, tu il medikit middle band Eh Gabby, via qua C'è una slurp, ti do la slurp Da 50? Slurp da 25, così ti da pure Eh ce l'ho già, ce l'ho già, ah questo, ok Perfetto Eh, chi vuole desert eagle? No, a meno me Fatti il medikit back se vuoi Ok Aspetta a te ragazzi che sono un po' concentrato Ok Avete colpi del pompa? Sì ma ne ho pochi Eh ne ho pochi anch'io Ce la miseria Dai ragazzi, dai Ci siamo fatti un team, bene C'è speranza, c'è speranza Vai così No c'è loot Potremmo proprio andar cattivo Provare qualcosa 48 Stavate 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 Non è che c'è un addirittura C'è un addirittura C'è un addirittura Davanti se vogliamo andare C'è un addirittura Stavano che l'acqua Comunque nel live qua È tutto bene Eh sì Vabbè avrete colpi medi del pompa per fuori I colpi medi ce li ho Del pompa no E qua I colpi medi io ne ho 200 Le vuoi 50? Io ne ho 21 Anche 50 tu? E siamo accerto Bene Ok Dai Ragazzi ora provo a giocare il massimo che posso proprio Non sconcentrarmi a fare i miei soliti fail Almeno morirò con onore se muoio Voglio farmi una partita abbastanza seria Ah Gabby comunque l'hardcore No no per favore non chiedetemelo adesso Non chiedetemelo adesso Dopo Se già uno vuole concentrarsi non di te Un giorno uscirà No no esce tranquilli manca pochissimissimissimissimissimo Team a 170 1 1 almeno c'è Non so se è un team Team Dico team perché ormai sono abituato Mi sa che ci ha visto Non lo so Occhio Numero Vedi numero 150 112 Provo a check in eye 112 Provo a notare io con il capo con il caccio Era qua da qualche parte Era qua da qualche parte occhio Non so dove è andata Sento spari No C'era una cesta in quella casa là dentro Eh si l'ho sentita però Non so Per evitare di farci sentire A Si 35 35 35 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 11 11 12 13 12 13 12 15 17 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 Oh, gli avevo levato tutta la vita, Gabby Vabbè, grazie Mi sono colpiti al pompa, non ne avevo più Arrivo, ragazzi Io li ho finiti, ragazzi, quasi Un attimo che mi curo Dai! Arrivo, arrivo Ma li avete fatti o... Sì, sì, almeno due Occhio che arrivi Io che stavo là tutto a distruggere Apri la porta Non c'ho granate, bella Se ne avanzo uno Dove? Aspetta, guardi, ne ho trovato un paio Trovate gli scudini Se ne avanzo uno, Gabby Ok Non vedo nessuno Ok, grazie Oh, raga, l'altro lo fa qui Io non lo voglio Gabby, io qui ti faccio un piccolo regalo Ehi, il regalo Mi piasono Arrivo Eh, eh, i regali Belli La balestra Bellissimo come regalo No, cos'è? Ah, è nuova pompa? No, scar Ah, lo scar Dov'è? Grazie mille Non potevi farmi i regali più balli Prego mille Non mi trovo Grisco l'aer Andiamo se Ragazzi, muoviamoci Dai Raga, qui fuori Bende Io ho Bende Io ho Bende A chi servono? Ad acqua Metto qua Andiamo ragazzi, andiamo Mi curo dopo La balestra Ah, ok Te l'hai preso Ok Io A me piace troppo Il nuovo pompa Perché si può fare No, ma aspettate Forse vi sto giù No, ma aspettate Mi sono sicuro Ma comunque Perché si può fare Dove il pompa Eh, no No, io ci sto Siamo ancora in 13 Almeno 7 Siamo 4 Siamo 4 Siamo 4 Siamo 2 e mezzo Siamo un team Un team da 1 E del team di 1 Spari Qualcuno si sta fai danno Stiamo qui Per fortuna La zona da endgame Ragazzi si chiude Ok, noi siamo inizial Aspettate C'è una cesta Mi vede poco Ho poche munizioni di pompa Non mi piace Cioè non posso farmi Le peggio kick Con così poche ammo Se avete munizioni di pompa Ragazzi Eh, ho trovato Ho trovato Ho trovato Ho trovato un po' Per fortuna qua No, ma dietro Lo scultino Mamma mia La trovate ragazzi Vabbè Bene, bene Ragazzi No, era per tornare Al centro di vita Ok Siamo 2 team da Eh, anche a me è servito Eh sì Non ti preoccupare Ho sentito sparare qua sopra Oh madonna Oh madonna dove siete Ragazzi più persi Ah, ok Sì Cerco di capire Ok Verso nord-est Nord Nord-over Sì Stanno costruendo la Da sopra Sotto Mi si stanno ammazzando a vicenda Flanchiamogli a sinistra Ma io vengo Vengo con Con un gabby Fanno anche rocket Quanta roba Raga Venite qua C'è Stanno facendo Salva Vai Saliamo sopra Che E abbiamo Tutto Sotto Il Stato E Sotto E 3 3 4 3 4 6 Gb GG Buono bomba leggendaria Ancora un altro team Ma chi spara? Ok l'altro ti mostro L'altro ti mostro L'altro ti mostro L'altro ti mostro Non ho più ammo Non ha neanche vita, sono morti Alleluia Oh qua sono Come? Non andate a soli occhio No no era un cestino Dove sono? Ah un cestino Questo qua mi arriva da dietro ve lo dico già Eh non può essere scappato perché era qua? Raga ma in alto a sinistra siamo tutti morti tranne i gatti Sì perché non ci ha curati Eccolo 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 La zona ragazzi Dai Alex Bello Medikit Non ce l'ho No Ok dammi No Siamo contro una persona raga No siamo contro tre Siamo contro una Contro una Contro una C'è un drop qua se volete Mamma mia raga Ma ragazzi abbiamo vinto con gli iscritti qua se tutto va bene se non fa il pro Mamma mia che onore Il problema è Dov'è questa persona? Non stiamo troppo attaccati uno all'altro se no ci fa col rocket E qua dentro qua dentro Entra sta casa Arrivo 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 Fermo 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 Gabi Ha messo Ha messo Trappola Oh L'uovo pompa Andiamo Quanto trappole Ok Quante trappole Ho vinto con gli iscritti Bravissimi ragazzi Gigi Siamo portati a casa una batte royale con gli iscritti e questa è stata proprio soddisfacente Bravissimi Bravissimi ragazzi Bravi bravi Mamma mia E che ne hai fatto Gabi? Ne ho fatto tipo 6 kill non so Io Zero Però vi ho aiutato è stato tutti Allora ringrazio Simone Ledda 2 euro Se verrò mai a Roma Probabilmente verrò Non so quest'anno Non credo ma il prossimo Potrei venire a Romics Comunque qualcosa del genere Comunque sto tremando Ragazzi Io Adesso vado a farmene una da solo O due Magari Casomai dopo riapro ad altri iscritti Comunque grazie mille per il game Lasciamo un possibilità anche ad altri a giocare Va bene Grazie mille Ciao a tutti Ciao Ciao Gabi Ehm Secondo ragazzi adesso leggo tutto Ah Privato ok Grazie mille DarioX11 Che cosa ne penso di PUBG È un gioco bellissimo secondo me Anche se ultimamente mi sta prendendo di più Fortnite Perché mi ricorda più Halo e più frenetico Mi piace di più l'azione che ha questo gioco Però molto bello anche PUBG Ci giocherai volentieri Se si anche più tempo Andrea Santo Santano Cito Due euro Mi dice ciao Ciao anche a te Pascala Righi Cinque euro e quarantanove Posso giocare con te Mi chiamo i fulminatori Dona cinque euro Adesso vediamo ragazzi Ehm Adesso volevo farmene una da solo Giusto per calmarmi un attimo Perché ci vuole molta concentrazione giocare in team Vado così Vediamo mi faccio una squad solo Vediamo un po' cosa succede Probabilmente non vincerò mai Ma per vedere un po' che succede Proviamo a farci questa squad da solo Poi magari ne faccio un'altra Questa live Sarà anche magari un po' più lunga delle altre Come live Mi spiace per i moderatori Ma voglio un po' provare Ehm Cioè mi diverto così tanto A giocare a Fortnite con voi Che Non posso farne a meno Sono un po' più lunga Diciamo che siccome abbiamo fatto tanto uno e we cheat Riprendiamo ora con Fortnite E per concludere Se avanza del tempo Inviterò anche Te e Pascal Se dopo provo ad aggiungerti anche l'altro che voleva venire da un pezzo Comunque ci sono sempre posti Ok Comunque abbiamo vinto anche un game Oggi non è andato nemmeno troppo male Questa volta però sono da solo In questo modo potrò anche più concentrarmi meglio sul pompa A questo punto E vediamo un po' che succede Tranquilli ci saranno magari altri game che potremo farci assieme Ora Ehm Ragazzi Dove posso buttarmi Provo a buttarmi a tomato town Mi ispira Vediamo tomato town Vediamo un po' che ci capita lì E poi ci spostiamo pian pianino E cerchiamo di farci anche Le uccisioni da altre parti Tranquilli poi Minecraft hardcore come ho detto sta uscendo Manca pochissimo L'abbiamo completata oggi proprio Ehm Adesso c'è solo l'editaggio delle musiche e quelle robe lì Ma L'animazione è stata del tutto completata Siamo molto contenti Prima possibile Arriva Penso anche alla fine di questo mese Non dico niente ma Presto arriva Tranquilli Ok Ci siamo Ok Tomato town Mi è venuto improvvisamente Voglia da pezza Ok Ecco ho trovato una mitraglietta che non è neanche male da usare Ad inizio game anche un fucile a pompa a posto Gente con me Non so se è venuta Credo che abbiamo ospiti Volevo invitare Sapete il mio locale è molto piccante Soprattutto se entri Sono molto piccante come persona Dovrei Qualche origine Mexicana Dovrei anche averla io Ok Uh scudini Grazie Prendo volentieri Mmm Così buoni che ti mandano come se andassi nello spazio Ok Ragazzi Vediamo un po' qua Facciamo aria che si soffoga Non c'è l'aria condizionata Dentro il mio locale Ok Non posso neanche farmi risorse A questo punto Distrogo qualche cancello Tanto paga l'assicurazione Tacos Ma il nome fu più Delirante Perché Uh Non avrai Tacos Ma qualcosa di meglio Questo negozio Ehi 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 Ok dai vediamo un po' che riesci a fare il vostro gabbippo In sta partita Ok Si viene di tutto le risorse Cioè se non ho legna nell'inventario Non mi sento tranquillo Devi sempre Avere Una via d'uscita In questo gioco te la danno Te la danno lì Ti offrono del legno Ti offrono del legno e ti dicono Costruiscitela C'è anche nella descrizione del gioco sotto Cioè Vuoi salvarti? Costruiscitela Possiamo costruirci Le vie di fuga Non so se potevo luttare di più sicuramente ho missato qualcosa Magari sotto la galleria trovo qualcosa di più Vado nel posto segreto Sì ragazzi Vado a vedere se ora qua dentro nel sottopassaggio si trova il posto segreto Oh Ho detto qualcosa Saranno le mie allucinazioni come al solito Sicuramente avrò missato qualcosa lì ma Lasciamo stare Voglio il posto segreto io Io voglio il posto segreto Tanto comunque Non siamo neanche messi malissimo eh Qua dovrebbe essere Quanto la cesta Sì È qua È qua mi sa Voi mi avete detto dietro la macchina No Sbagliato Allora è qua Il rumorino viene qua È dietro la macchina È dietro la macchina È dietro la macchina Guardate L'abbiamo trovato Vedete Questo posto è segreto Con un poster Forse è un altro gioco dell'Epic Games questa Che Magari sto failando Sicuramente No forse è un real tournament Sembra tipo un real tournament Magari Potrebbe essere la Uh trappolina Ci sta sempre una trappolina nell'inventario Fa un po' male Avere tutti quegli spuncioni Nel gonellino Uh Due Mi state Uh Mi state viziando Grazie Non dovevate Ah che bello Ok Questo fucile Voi mi avete detto Gabby non usare questo a distanza Io lo trovo molto forte Uh Aspetta Dietro Ma è un team da due eh Ah sì perché ho fatto la squad Facciamo una cosa Carina Controlliamo intanto che non ho gente qua Andiamo qui sopra Ho fatto uno Matterla dietro Sicuramente mi rusherà Io mi prendo più legna E gli lascio credere che sono ancora lì Però gli darei la posizione rialzata Non so Se fare Però dai Se la prendo io questa Prima di loro Magari loro pensano che io sia ancora là E quindi vanno lenti Vediamo che riesco a fare Perché non so quanti sono Devo giocarmela ad astuzia Non è che abbia armi fortissime Ok Il posto del pompa prendo questo Per gli scontri ravvicinati Devo farli Devo ravvicinarli se Voglio far robe pro Ok Si stanno lanciando lì Ok Mi sa che siccome non mi hanno visto Io questi qua me li rascio Me li provo a rasciare io da dietro Guardali guardali che mi cercano Che si dividono Devo un po' trollarli Com'è il gatto con il topo Sicuramente quello avrà un cecchino Ah ma io ho il cecchino è vero Eh Ora mi sono ricordato Guarda che gli ho fatto vedere come c'è chi Eh dura quando sono la Se fossi ninja Io li rascerei Se fossi ninja Ma io ho solo il mouse di ninja Non sono ninja ancora Potrei fargli un rush Io voglio un po' Indebolirli E poi risucchiargli sangue alla fine Questo è il mio obiettivo Cavolo qua mi avranno visto certamente Non lo so ragazzi Qua che c'è qualcuno Gli indebolirli Sicuramente saranno lì Camperati Cioè io devo andarli da questi Io devo Devo andarli a fargli un autografo Io li provo a rasciare Non me ne sbatte Li vado io Vediamo come va Dai ragazzi Rischiamocela Se no non è divertente Fortnite se non te lo lasci un po' Se non provi Devo skillarmi Prima o poi Devo uscire Della culla Appena detto Perfetto Magari sono quelli di prima Che hanno fatto lo stesso giro Prendiamo il succo Terra E ora andiamo a prendere il suo amico Mamma mia che è easy Fate schifo Ok Ci sono Non vorrei però Ce n'era un altro Ah Ragazzi Uh la zona Gli scudini non ce li avevano vero? Avevano solo sto cecchino Ah no ce li avevano aspetta Ok dopo Misso le cose importanti Oh Guarda la Andiamo a prenderci anche il drop Andiamo Ma si Comunque io scherzo Non è che fanno schifo Quello che fa schifo qua sono io Ma comunque Meglio Faccio Ogni giorno Meno schifo Ok? Secondo me erano quelli di prima Che mi hanno fatto tutto il giro Scusate se urlo Magari Abbasso un po' Magari ragazzi adesso Dovrei far meno casino Ho il gain un po' alto Ok Va bene Guarda qua c'è uno Ma non muore mai? Ti ho fatto 3 hit Aspetta Dai che c'era l'albero in mezzo L'hanno fatto fuori Quello era mio Quello era mio No quello Un pro Quello è un pro L'ho visto subito Si fa il fortino Quello aveva la skin endgame Sicuramente Non è uno Che è nabbo a sto gioco Li vado da dietro Li andrò dal tetto Cercherò di Giocarmela in altri modi Con questo Il pro è messo male Messo male il pro è messo male Non ho materiale Devo trovarmi materiale Alla svelta Qui sono un uomo morto Non so se quello là Si è morto Ma poi devi Se lo è materiale ragazzi C'è ancora il drop da prendere E c'è il pro ancora vivo Una terra Che sono team Devo ricordarmi che loro sono team E io sono da solo Perché questa è una squadra Non so se mi arriverà un rocket Ma è meglio andarcene Tra un po' la zona si chiude Ah cacchio È vero Cioè pensavo Stavo ragionando endgame Come se la zona non si chiudesse mai Allora sono fregato Ma anche male Sono fregato malissimo Se la zona è così Mamma mia se son fregato Porca vacca Porca vacca La stavo ragionando endgame Pensavo che la zona andasse lento Ero più concentrato a farmi le kill Porca vacca Quello si è suicidato E io morirò Non ho Non ho Cavolo Questo qua Ucciso Il pro D'esta fava Qua piano di gente Magari Prenderò qualche scudo Dal loro corpi Ecco Magari riesco Mamma mia Ragazzi vediamo se troviamo un po' di roba da Da sta gente Se riusciamo a vincerla in qualche modo da qui Ok Bende Perfetto Ce la facciamo di bende Vediamo se troviamo roba Bende su bende qua Bende su bende Me ne frega niente Mi faccio la scorta di bende infinita E dovremmo farcela Facciamo così Proviamola di bende Ce la facciamo dai Appena tocca la mie miello Come un pazzo C'era uno debolissimo Che sono Ecco Ecco Mi sa che era quello Bene Meglio che Che curo qua Meglio che curo Cavolo quanto fa male Facciamo un paio di passi Poi torna a 30 Mi ricuro Vai a 30 Ti ricuri Guarda quello che sta morendo Magari quello è un succo Magari quello è un medipack Magari quello Avete visto che è morto lì? Magari quello È la nostra salvezza ragazzi Magari quello Se no lo usava eh Cioè Cioè Speravo che fosse così nabbo No 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 Se dopo si attiva l'altra Se io arrivo fuori che si attiva già l'altra E poi lappa un macello di danno Ah Sai cosa potevo usare? Le granate Quelle di prima Guarda che ci penso C'erano quelle granate che ti gustavano Quanto dolore nella mia vita Quanto dolore eh Sono quasi arrivato ma poi si attiva un'altra C'era Dammi un help ecco Eh grazie altre band Guarda che si attiva la zona Però farà il triplo più male Wow Andrà più lenta Anche io andrò più lento Il trampolino ragazzi Dite che ce l'ho No Ah ce l'avevo È vero Ragazzi se uso il trampolino Ragazzi siete dei geni Forse Ce la facciamo È vero il trampolino Io mi uccido Scusate se non urlo ma qua Dove urlare Ho ancora un problemino Con il trampolino C'ho un po' di problemi Questo mouse è troppo sensibile Tu fai così su sto mouse Tu fai così su sto mouse Questa va nella top ten Sono sicuro Che in qualche video Di qualche indiano sperduto dell'internet Troverò questo fail Riuppato Mi odierete malissimo Mi odierete Mi odierete malissimo Un'ora di sofferenza per questo Io voglio uccidermi Io voglio uccidermi ragazzi Ah It hurts so bad Per favore Non lupatela su fortniteclip.com Per favore Ah Dai ragazzi Ma io lo so Io adesso vedo tutti i hobby Ma tu fai sempre fortnite Mi disiscrivo Quando esce minecraft hardcore Quando tu la vedrai la E uscirà la tua serie più bella Ti riscriverai Ne sono sicuro Garantito Mi dispiace per te Ti farò riscrivere Ti farò commuovere Con quella serie Non importa Disiscriviti adesso Ma ti riotterrò E' un dato di fatto Mi dispiace Non puoi disiscriverti Non puoi Ritornerai Ok Adesso Bando alle cianci Agendo alle mande Andiamo per di qua Questo andrà Magari un po' Se mi concentro Andrò sempre in mezzo Nell'occhio del ciclone Questo chi è? No niente Nessuno Dimmi che qua Cado in un punto Dove non mi sfraccello La faccia Guarda io Ma più o meno Ok Datemi un pompa Please Ragazzi De pompa Granate La pistola pompa Detto anche pompa 2 Pompa in miniatura Pompa piccolino Ooooo Welcome back Ma ecco Così mi piace di più l'inventario Siamo dentro la zona Meglio di così Meglio di così Si muore Speriamo di no Ok Scudino Ok O si esce Meglio non star troppo fuori dalla zona Comunque si Per quelli che lo chiedono Gioco con mouse e tastiera Ovviamente Sono su PC Mi sono Una volta giocavo sempre con i controller Ai tempi di Halo E adesso Mi sono un po' convertito al PC Perché ormai Halo Un po' mortacchiato Almeno Uh Ma sono ancora in squad? Oh no Pensavo di aver buttato una solo Vi facciamo una sorpresa Vi facciamo una sorpresa Vi facciamo una sorpresa ragazzi Che dite? Vi facciamo una sorpresa Ok Ok la sorpresa gliel'abbiamo fatta Ora i sui Oh Cosa avevano? Come? Usate Nasconderlo Dalle mie occhi Adesso arriveranno i suoi loro amici lo so Ok Ok Ma tutto bene Gabby Dove sono i loro amici? Hm? Non ce l'hanno qua dentro Ah Bene Vedi Pensi che queste siano le capanne inutile Inutili E trovi sempre uno scudino Io Uh è anche un me di pacco Ok Ok Dai ragazzi Forse Speriamo Possiamo forse Ma No non li prendo i medipack C'è sono indeciso perché Nella situazione di prima Se ce l'avessi avuto Ma è meglio avere gli scudini dai E' meglio avere anche un'arma che spara da lontano E due pompa Mi spiace Non voglio abbandonarli così Sono sicuro che questa scelta potrei pentirmene meramente tra qualche secondo Ma Dai bisogna Bisogna un po' rischiarsela Dov'è? Boh Non si sa dove Voglio andare un po' verso il centro Vorrei anche cercarmele un po' le kill Provarci Ricordo che sono in solo squad Quindi sono tutti team La gente contro Avere un rocket può aiutare Magari carico E magari non tirarmelo sotto i piedi eh Perché potrebbe capitare Sono esplosivo Gente a pinnacoli Non so quanto mi conviene Guarda qui da lui Pinnacoli Ci rincontriamo Magari ci sarà il cecchino là sul tetto Dai Vorrei incontrare Qualcuno Non di troppo forte Non di troppo scarso Una via di mezzo Un gabby Un gabby Un altro gabby vorrei incontrare Un amateur Dice amateur quando non sei pro Cioè semi pro c'è l'amature Non so quello Che gioca Che è abbastanza forte ma Non proprio come un pro Forse quella è la mia definizione Di questo e-sport Cioè the game E-e-sport Per quello Poi cosa dice il cuna game Non ho mai capito cuna game Join the game forse Una volta lo sapevo Mi sono scordato Iiii Cecchino? Cecchino versus rocket Chi vince? E' là dentro? E chi c'è? Sapete cosa? Ah! E' là dentro Ah! E ci sarà un cecchino che vorrà ammazzarlo E dov'è quel cecchino? Ragazzi qualcosa mi dice che è meglio andare per di sopra comunque Cacchio Non voglio andare la a lasciare perché Hanno sparato E non so se ce n'è un altro Quindi io Tanto controllo la Che magari lo aspetto Da sopra Però non mi fido perché C'era un cecchino qua Prendiamo la position E vediamo Ok Meglio sbombare Aia! Mi sono cacciato nei guai Mi sono cacciato nei guai No! No! Mi sono cacciato nei guai Mi sono cacciato nei guai Mb sta rischando ok ok forse stiamo avendo un nuovo ninja forse forse dai pian pianino mamma mia ok qua ci sta ok ora basta prima che mi cita ma tu guarda cosa avevano lasciato ma ci avevano elpec meglio che aspetta quanto è la zona porca vacca allora andiamo di bende poi adesso vi mostro cosa faccio io adesso vi mostro se non arriva un allora noi prendiamo questo ok prendiamo gli scudini il rocket vorrei tenermelo do via il pompa tengo queste che facciamo così così andiamo più veloci fuori dalla zona troveremo un altro pompa dai sperando peccato però quelli fanno veramente tanto danno non so cosa sarebbe stata la miglior combinazione lì guarda la cosa era meglio il pompa lo so me ne pentirò ok oh dai dai è andata bene contando che siamo in squad non è affatto andata male sai cosa dato che sono in zona me lo riprendo easy mi sento più al sicuro con due pompa avete visto sono necessari voglio munizioni per il rocket dimmi che non mi sparate da dietro mi fate schiantare siete cattivi se lo fate magari piglio da dietro quello che ha creato sta maradam sarebbe una goduria troppo incredibile ho spaccato il ponte questo vuol dire che è ancora qua ancora qua dov'è non sei qua dov'è dov'è no no l'esceso uffa allora zona per di là pinnacoli è no no Avevano un rocket Però dai Bene Bene Non male Con 5 kill Ho trovato anche un team da 3 Avevo 0 munizioni di rocket Era difficile Dai Direi che ne facciamo proprio un'ultima Ultima Penso domenica prossima Ne farò un'altra con gli iscritti Oggi non mi sento più in grado Di farne altre Perché veramente ci vuole molta concentrazione Quindi ne faccio una da solo Che sto concentrato per i cacchi miei E concludiamo questa live qua Dai direi che abbiamo fatto abbastanza Comunque dai Ci sono state Delle belle azioni In sto game Mi è piaciuto Un po' di sfiga Ho anche creato Ho sbagliato muro Volevo farmi quell'altro Mi ha fatto il muro a punta Non so Sto mouse è vivo Vi ho detto Il problema è del mouse di ninja Che è posseduto Dallo spirito di ninja E a volte A volte mi trolla Cavolo Però dai Pian pianino ragazzi Andiamo sempre meglio Penso di migliorare Penso di 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 essere Migliorato Penso di esserlo Voi fatemi sapere anche voi Nei commenti Se avete consigli Su quello che secondo voi sbaglio Io do un'occhiata Fatemi sapere Se Se c'è qualcosa Che voi fareste diverso Dai Ultimo game Come va va Potremmo farne Ultimi due Ne provo una Proprio a pinnacoli Perché me la sento Così per un po' di action Vediamo se ci va male Restartiamo Altrimenti se mi va bene Faccio Continuo solo quello Voglio provarmela a pinnacoli Dai Ci facciamo un po' di action La vediamo un po' com'è Ci gira Allora Allora Andiamo a pinnacoli Proviamo questo delirio Di mezzanotte Ancora presto Ok Andiamo a pinnacoli Dai che ci parte La ship qua Allora io andrei In quella casetta Dopo la torre Mi sento Vedete che ci arrivo bene Non me la volete fregare Vero? Ok Questo Sembra di no Sembra di no Dai No Allora ragazzi Dobbiamo peccarci l'arma Quindi Prima di tutto Il C4 E apri una parete Facciamo così Tiro Apro Ok Facciamo così Ci beviamo il succo Velocissimamente Forse Un pro Avrebbe anche Io il C4 Mi faccio saltare in aria Kabum Dai Ah eccolo il pompa Mamma mia Lasciami infame Può farà meglio che non la mettevo qua Ma sai che cosa faccio? Questo mi rusha Questo mi rusha Porco cane ma Sei un odio Uh Ora puoi rusharmi Eh? Vieni giù Vieni giù Amico mio Potrei anche uscire Andargli dal tetto Mi faccio legno intanto Intanto che lui è dentro Io Faccio capire che sono vivo Vabbè Vieni Ok sto spaccando Finalmente Vieni si spacca Quanti sono? Sono da solo Spero Ho messo la squadra o Anche granata Io vorrei uccidere sto qua È uscito C'è uno che mi odia C'è mi sta odiando Mi sta aspettando Porca vacca Andiamo Ho sentito E uno mi ha visto Ritirargli un c4 In faccia Ah la qua fuori Facciamo così Guarda 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 lì Oh chi è che Tira È là dietro ancora Mamma mia Oh adesso Almeno Ho l'M4 Qua Allora Facciamo una cosa Prendiamoci lo scuso Sono un po' lento Adesso ragazzi È un po' tardi Potrei fare più veloce Ok Chiede uscita Confermata Vov'è? Il cecchino Ho poche 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 risorse Qua dietro C'è gente qua dietro C'è gente qua dietro E vorrei farmi fuori Uno di loro E non ho Quanto odio sto gioco Quanto odio sto gioco Dai Abbiamo detto Pinnacoli Era così Però dai Quanto odio sto gioco Mamma mia Sei trappole Devi guardarti ovunque Mamma mia Adesso voi lo vedrete in ritardo No guarda Non l'avevo vista Non l'avevo vista L'avrei potuto vedere Ero preso Ero presissimo Dai Dai Vabbè L'ultima da un'altra parte Ok Quando entri nelle case Spacca tutto Mi dite Ci provo Proverò A spaccare più roba Che purtroppo Danno poca legna Non è che La blitz magari la faremo La prossima volta Se non la levano prima Ma ne metteranno un'altra Grazie mille Comunque per i consigli Proviamo Da prigione Sì sì la prossima Comunque Ogni volta Proveremo a giocare Con gli iscritti Tranquilli Queste cuffie Sono della Sharkoon Le B2 Mi sembra Ok Io ho distrutto un timpano Io ho distrutto un timpano Ma dovevo Comunque con me Ho visto un mega succola Ehi che ci fai Tutto qua solo soletto Voleva Un compagno di aventure Che l'ha trovato Ehi che l'ha trovato Eh scusa ti lascio Ho trovato Uno più bello di te Nooo È durato un secondo Il nostro amore Eh È comunque una storia Una storia migliore di Twilight Dai 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 Oh C'è uno Comunque Sicuramente sto qua per lo scudo Tre pompa Aspetta No No Non morire Stavo per failare Alla grande con sto qua Mamma mia Che schifo Mi faccio schifo da solo Non serve che me lo vedi Quindi non lo metto Almeno abbiamo le bende Dai Non penso ci siano altre Mamma mia Mi son fatto schifo Tranquilli Non serve che me lo dite Va Così all'aria aperta Facciamo prendere un po' d'aria Ste ferite Allora Ah il succo me l'ha lasciato Genius Perfetto Ho già fatta La sfida dei cartelli ballerini Non potete comandarmi Ok Guarda che benda il cielo Sto tornando in puntini Concentrato Gabby Concentrato Questa volta Concentrato Un'altra pompa Non mi basterebbe Il solito qua sopra È pieno di cesta Ogni volta C'è uno che mi sta guardando Mi sta stalkerando Malissimo Mi sento osservata ragazzi Volevo Guardo l'ultima E poi ci muoviamo Ecco Ma tu salve Oh Ma tu salve Ah Bene Grazie Ti voglio bene Oddio Quante c'è sta? Non credo Entriamo per di qua Così vediamo anche se c'è roba D'altra parte Ho fatto un volo Ragazzi mi sono spaventato Sì c'è una cesta qua Perfetto Dai dopo questa me ne vado Uh Uh Ok Ok No Ok Ok No Aspetta Vediamo cosa riesco a fare Allora Ho pochissime risorse Facciamo così Andiamo qua dietro Ok Se viene qua Al pompa il mio territorio Nooo Mi ha distrutto Cacchio Brucia No voglio farne un'altra ragazzi Voglio farne un'altra No Mi ha distrutto L'ho sbagliato Io qua Mamma mia che schifo No no Non mi è piaciuta per niente Sto round Facciamo uno Uno migliore Voglio farne una Almeno che duri Un attimino Questa Sono stato lento All'inizio Voglio Voglio fare una meglio Povero Noyeku Dai Noyeku Ho quasi finito Dai Questa veramente Come va Va Questa Questa la finiamo Come microfono Ho uno Shure PGA 27 Perché se lo chiede adesso Uso quello Da un bel po' di tempo Ma cambierò Ragazzi Saluti a fine live Per chi riesce A resistere Dai Stiamo concludendo Comunque Dove vado Ragazzi A rifugio Uno mi ha detto Vai a rifugio Vado a rifugio Eh la mira ormai A quest'ora Sta straballando Devo O non commento E me ne sto zitto Che ho visto che Comunque tanti Twitch streamer Cioè anche ninja Non è che Parli tanto In partita Cioè Se la concentra Abbastanza bene Lui Dovrei Dovrei fare un po' così Anch'io Dovrei concentrarmela Al 100% Ogni tanto Magari nei momenti Calmi parlo Se volete Proviamo Dai Provo proprio A Concentrarmi Al max Magari viene una partita Ancora più Però Come se fossi Da solo Un po' Metto a mio agio Comunque vado A rifugio Ristirato Resistete ragazzi Questa è l'ultima Rifugio ritirato Uno di voi ha detto Vado lì Avete detto così Io vi ascolto Che è qua Dov'è È qua Questo qui Ascolto Ah no è là Ah si Quello La torre Giga enorme Ah ci rincontriamo Odio quel posto Pieno di boschi Beh Boschetto qua Boschettone Dovrebbe star zitto Quello Andiamo Ci arriviamo Sono i veri Fedeli Gabbiani Resistono Fino al fine Fino al fine Della live E voi Riceverete un premio Mi do un premio Il premio è Ecco sul vostro pettorale Sulla vostra spalla Anzi perché Questo è il premio Dei gabbiani Tenetelo con cura E tramandatelo ai vostri figli Wow Proprio Bello sto posto Comunque ho visto che c'è uno In quella casetta Ah Ah La nonna C'è il rosso Uno magari sarà già salito là Devo trovare qualcosa Ok Mi devo uccidere quello là Per prima che lui uccida me Non posso accettare La mia sconfitta Sicuramente sarà dentro Quella casa A farsi il lutto Della vita Ma se io mi faccio Una bella zona Attendo la distanza Magari trovo altra roba Come sprecare tutta la legna Ora dai Oh Non male Non male Ah Scusami Tox Che dono due euro Per dirmi che avevo svegliato nome Prima E la prossima volta Ce la faremo Dov'è Un po' tizio Deve essere qui C'è una trappola Deve essere qui Dov'è Dov'è Ha spaccato qua lui Deve essere qui Sarà camperato Come un infame Sarà uno scudo Ok perfetto Questo era abbastanza Nabbetto Per fortuna Ok Lui sicuramente Mi avrà luttato Tutta la casa Non Neanche vado a guardare Magari Non l'ha luttata tutta Però mi fido Sulla nabbagina Mi fido Come faccio a distruggere Sta cesto Così Dal tetto Per forza Se non voglio Spaccare il muro Poteva essere Uno scudo Poteva essere Meglio Ma non piango Sul latte versato Ok Forse ho visto uno Con la cosa del latte Lo scudo L'abbiamo trovato Comunque Chiedo scudo Dai ci muoviamo Tra un po' la zona Ma sarebbe Anche Di andare Sopra lì No No Poi magari Non faccio a tempo Ma potrei Anche farlo a tempo Perché poi C'è la zona Però dai Mi muovo Non voglio rischiare Vorrei anche un meglio Fortunite Fortunite Che sembrava Fortunite Vabbè Questa è l'ultima partita Come va va Oh Studini Lascio L'elpec E mi Faccio così Guarda Un M4 Nell'inventario Sta sempre Che persona Orribile Le persone Non avranno più posto Dove defecare E verranno a cercarmi Ma è quello che voglio Voglio inimicarmi Più persone possibili Perché più persone Uguali Più kill Oh ma quello Chi è un nano Non ho mai visto Quella Non ho mai visto Quel coso Quel coso Appunto Perché è un coso Per ora Per me Quello è un coso Se anche per voi È un coso Lasciate un like Perché per me È un castoro Sicuramente 100 euro No un orso No un orso È un orso Che suona la tromba No qua vorrei farci un editing Vuoi fare Vorrei mettere Epic Sax Guy qua Quello col sassofono Il sax Eeeh Eeeh Un imperioso Mi spara E' un posto Felice Eeeh Non facciamo del male a nessuno Poi suona La tromba E ti chiudono i cancelli Dietro Sei fregato Sei giurazzi Park Sei a Bear Bear Park Peggior parco Non vorrei mai andare a Bear Park Io Porco schifo Ok Eeeh Eeeh So che qua conterete Che sorpresine Siamo dentro Manco Una persona Ok Qua c'è gente No Ah C'ho l'automatico C'ho l'automatico Sono scarso Faccio schifo Vediamo Bene C'era quello che aveva la skin Che usano i pro adesso Tutti si mettono sta skin Di Sembra dei Il trono di spade Non so mi ricorda qualcosa Del trono di spade Oh mamma mia Devo fare in fretta Chi vuole venire qua Il mio rocket Io sono incasinatissimo Mamma mia Bannatemi Devo muovermi Andiamo avanti La ho cioccato tantissimo Perché pensavo Io era il colpo singolo Del fucile a precisione Poi mi sono accorto Che avevo Automatico Ho iniziato Ho perso un po' la mira Perché non ero Preparato Ad aver l'automatico Ultimo game del giorno Vi ricordo Siamo ancora vivi Mancano 20 persone In alto E tutti i gabbiani fedeli Che sono rimasti qua A proteggermi con le loro ali Dai Cercheremo di andare via Con onore Se dobbiamo andare E se ci capita Potremmo anche Cacciarci la vittoria Ok pensavo Aia Chi c'è là Faccio una cesta Pura Dove sono Ragazzi Ah lì Quanto faccio schifo Io odio l'automatico A parte che è uguale Ragazzi I'm a dead man Non sai Ok Ok Io lo droppo il cecchino Visto che faccio troppo cagare Torno di sopra Faccio credere Nabbo Poi gli arrivo con rocket Dopo però O dopo Tanto la zona È dalla mia parte Quindi No oggi col cecchino Ragazzi Non ci prendo un colpo Non c'è storia Oggi col cecchino Ah Oggi col cecchino Il campo era un po' qua Quello Ok È là indietro Ok Aspettiamo la zona Vediamo Un pianino Dovrà spostarsi Sta guardando qua Vediamo Un pianino sta guardando Ora quando correrà di nuovo Ok Teniamo la bada Vuole fare il giro A parte che anch'io La zona È Attaccata al ciurlo Questo mi fa L'ho l'impressione Però dai Mi metto sopra Quella casa Mi metto sopra Sta casa Lo aspetto Lo aspetto La zona Non c'è Lo aspetto Bene Cioè voleva giocare con me Voleva giocare con me Io mi bevo questa e poi scappo Quanto ho? Ups Una testa bassa Ok Sta tutto bene Sta tutto bene Se aveva munizioni guarda Oggi Sprecato il rocket Cioè so che potevo far veramente meglio Ma ragazzi io sono stanco Dopo tre ore di live Mi sento sgolato Svenato Quindi Abbiate Ecco pietà di me Come su Che perché mi aggredite Abbiate pietà di me Cavolo io ho veramente poche risorse C'ho tre fortini attorno Mi faccio le risorse per volare da qualche parte Al sicuro È l'unica È l'unica È l'unica Mi butto là dentro quel suo fortino di prima E poi volo da qualche parte Non me ne frega niente Dai Oh gli stanno sparando da rocket Bene Qua che avevano Un altro rocket Perfetto Magari vuoto Vuoto Che facciamo Scar Ok lasciamo Così Così Ok questo punto l'odio Ecco per quello Non tirare un rocket qua Please Non c'è andato nessuno Vorrei aprirmi un buco tipo talpa Perché questo mi vede da qua Porca vacca Se mi vede La zona è qua sotto Io direi di farmela sotto Questa Solo trappole Posso nonché piazzarle qua Non è che c'è qualcuno Cioè non Per carità Non è male come punto Per camperarsela un po' Ho due rocket Cioè Ho Sono un genio Ho due rocket vuoti Non è che dentro la tenda No Due rocket vuoti ragazzi Che belli Poche ammo Ho perso Diciamola così C'è un loot là Che Appena ci vado Mi trucidano Con ste armi Proprio Me la devo giocare safe Ecco Quello si va Vediamo un po' come va là Quasi stanno sparando Sti due Potrei pigliare da dietro Sto qui Mi Mi Garberebbe Non Aspetta Allora facciamo così Aspetta Facciamo così Facciamo così Facciamo così Facciamo così Quello è là sopra Si vado ancora più all'interno Si vado ancora più all'interno Si vado ancora più all'interno Porca paletta Non mi ha visto Non mi ha visto Siamo in quattro Quindi Quei due Io E un altro Che magari sarà qua Camperare peggio di me Che varrà un rocket 9 su 10 Lui Io ne ho due Scarichi E ne sto qua Vuoi vedere che è qui Ti prego no C'è il fortino Là in fondo Mi avrà visto 9 su 10 Teniamoci la position Teniamoci la posizione Ragazzi Speriamo che ci vado Vorrei lasciare di più Ma veramente Non ho le armi Non ho le ammo Devo giocarmela Molto safe Non ho neanche tantissimo Materiale Per E un po' Un po' giocarmela Sugli altri Questa Cioè Non voglio rischiare Anche perché Una live Se fossi per conto Io magari Mi butterei un attimino Di più A volte funziona Ma Ok Quello si sta facendo Il fortino Lì A 35 Questo Sta Ho visto uno Che ha creato là Mi sa che l'ultimo È là C'è uno Sicuramente Da quelle parti Io mi metto qui No In teoria Non dovrebbero Beccarmi da qua A meno che Non c'è uno Addietro Aspettiamo Siamo in zona Comunque Teniamoci la posizione È tutto ciò Che possiamo fare Ecco Là si stanno ammazzando No ha tirato via Vuol dire che ha colpi Da sprecare Quello di rocket Una cosa è certa Quella ha colpi Da sprecare Brutta 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 Situation Bruttissima Penso una delle peggiori In cui sono Stato Ultimamente Non avrei dovuto Prendere l'altro rocket Pensavo che avesse ammo Magari già dentro Ho detto Dai avrà già ammo Dentro Figura Se le è beccate Tutte sto Sto infame Sto spilorcio Sto sorcio Vorrei spararli Ma Ci siamo in tre Quindi uno È là dietro Può darsi che Corra da me Comunque anche l'altro Deve uscire dalla zona Spero che se la Fightino Gli ultimi due E io faccio Quello nell'intermezzo Che si Prende tutto Ma senza rocket O costruisco Peggio di me E riesco a bloccarglielo O sono finito Per quello Non mi piace per niente Però dai È l'ultima partita Della serata Quindi Come va Va Ok Sto sparando ad altri Vuol dire che L'ha ucciso C'ha ucciso uno O no Devo muovermi comunque Una cosa è certa La zona è su di lui Posso creare comunque roba Vado adesso Eccolo là L'ho visto L'ho visto L'ho visto È qua dietro quello Rosa ecco Aspettiamo lui Aspettiamo lui Gli andiamo dietro E aspettiamo Non voglio ucciderlo Perché potrebbe aiutarci Questo Potrebbe veramente Aiutarci Ok Ok Non voglio ucciderlo Gli andrò alle spalle Se proprio devo l'uccido Ma Se io l'uccido Me la devo vedere io Contro l'ultimo Aspettiamo Non voglio ucciderlo Non voglio ucciderlo Non voglio ucciderlo Ti rocchetto Bravo Vero tutto il moore Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. Cavolo son fregato. Cavolo. 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 Grazie a tutti Sono morto Nella tempesta Stavo uscendo Dai Però era impossibile contro sto qua Però dai c'è stata una bella action C'è stata una bella action dai I building È stata dura Avevo una posizione di vantaggio Sono caduto non mi sono neanche capito come è la zona Ho provato in tutti i modi Sono morto Dovevo spaccare sotto Ora che sto riguardando il video Devo spaccare sotto forse ce la facevo Poi avevo pochi materiali Questo era rocket infinito Era dura Dai Bella ragazzi Dai sono contento comunque delle partite di oggi Ci sono state veramente delle belle azioni Cioè penso di aver fatto veramente delle belle azioni Sono esausto Ragazzi Ci abbiamo provato in tutti i modi Grazie a tutti Ora passiamo ai saluti Saluto Benni Simone Diego Kieller Master 52 End 1001 Blu Mark Emma Lorenzo Dellucraft Salvatore Castronovo Aurelio Niccolò I leggendari 001 Alessandro Medio 84 Jojo Kiro 004 Riccardo Piazzola Tox Te la mando dopo se ci riesco Pulch 08 Maria Grazia Marino Facefish Pallo Gamer Car Kirishima Kirishima Vincenzo Nicoletta Michele Lello Andrew Manuel Tiger Cat X G Power Kitty Rob Wasso Invincibile 007 Luca Pulpi Alberto Bottino Anna Andolina Kevin Niccolò Il Beppe La giornata veramente assurda All PC Games Simu 76 Pasquale Grazie mille anche a Noieco Che poverino Ormai L'ultima botta di spam E poi è finita Ant Flavio Ludan Jack Mikasa Luca Facchino Ultimi 10 Lorenzo Sambanico Credo Non so se l'ho detto giusto Zaborg Barbara Maxi Sergio Alessandro Knight Giorgio Leone Lisabetta Riluim Dark 06 Jonah Candoli Dub Dorin Silver Fog Mister Money Lolloso E l'ultimo Dai saluto bonus A Franzi 04 Ragazzi per altri saluti Ci saranno altri live Ogni domenica circa Andiamo in live Sblocco Sblocco Davy Bac Che bello Guardate ho completato tutte le sfide Oioioi Ragazzi è stato un piacere Grazie mille per essere stati qui con me per aver fatto compagnia Ci sono stati dei bei game penso stasera Abbiamo vinto una battle royale con iscritti è già tanto E ci sono state un paio di solo Insomma delle azioni che secondo me sono carine Poi abbiamo giocato con gli RGB È stata un po' Tranquilla Sto sputando come un lama E prossima live Faremo ancora meglio Vedrete Sempre Sempre meglio dai sto Penso di Che stia migliorando Sempre di più questo gioco Ci sto giocando almeno Per conto mio Un'oretta al giorno Mezz'oretta così per tenermi allenato Per E Penso che pian pianino Sempre meglio Grazie mille ad Alessandro Parenti Che dona un euro L'ultimo L'ultima donation Tox che ha donato due euro Tox YouTube Così Ok mi assicurerò di aggiungere Anche te Grazie mille a tutti E noi ci vediamo Alla prossima live Al prossimo video Domani esce un video Tranquilli Non sarà fortnite Per fortuna Faremo una settimana Senza fortnite Minecraft hardcore Penso che per il 30 è fuori Ma vedremo Comunque Esce Veramente L'abbiamo finita Quindi Non ci sono più scuse L'abbiamo renderizzata Cioè Ce l'abbiamo Ragazzi Ci becchiamo Dalla prossima live Ciao a tutti Ciao a tutte Grazie e buona serata Buona serata a tutti